E allora buon pomeriggio a tutti, benvenuti, benvenuti ai colleghi collegati da casa ma soprattutto ai relatori qui presenti e ai relatori collegati da remoto. Li nomino semplicemente, salvo poi dopo indicarvi anche che ovviamente come tutti i relatori di questo nostro corso, il corso Diritto dei Beni Culturali, sono di altissimo livello e prestigio. Io infatti per questo li ringrazio e lo faccio in tutte le occasioni in cui ho il piacere di incontrarli perché si dedicano e dedicano parte del loro tempo alla nostra formazione che sappiamo essere anche molto specialistica in questa materia. Allora io saluto la collega Virginia Montani-Tesei, il signor Marco Longari, la professoressa Sharon Ecker, la dottoressa Eleonora Coloretti, il dottor Fabrizio Russo e ultima ma solo perché merita un ringraziamento speciale l'avvocato Caterina Giabattini che è stata una delle promotrici insieme alla collega Elisabetta Pace che pure ringrazio e che credo essere collegata da remoto e ha dato vita e ha permesso la nascita, lo svilupparsi e ormai il buonissimo andamento di questo corso. Siamo al settimo incontro, vedo anche collegata la collega consigliera Carla Canale che con me insieme alla Commissione Cultura e Spettacolo ma anche con la Commissione Rapporti e Conteziosopia e Denti Locali ha organizzato questo corso che ricordo è di nove incontri, li trovate quelli svolti fino ad oggi tutti quanti sulla nostra piattaforma per chi volesse o avesse perso gli incontri precedenti o volesse vederli o rivederli e niente diciamo ci siamo tutti perché sicuramente sono collegati anche da remoto gli altri nostri tre relatori ringrazio anche il FAI perché il FAI insomma ha patrocinato questo questo corso e i nostri eventi e so che infatti tante anche persone legate al FAI seguono su YouTube e sulla piattaforma anche successivamente i vari incontri e oggi andiamo a trattare la vendita di un'opera d'arte e quindi io non so se Carla Canale vuole farci un saluto altrimenti eccola la vedo Un breve saluto e ti ripasso la parola Angelica perché stai in presenza quindi sicuramente lo gestisci meglio di me però vi seguo ovviamente D'accordo Occasioni anche i saluti del nostro presidente Paolo Nesta che ripeto purtroppo per diversi impegni non riesce ad essere presente ma insomma ha assolutamente come dire sposa e caldeggia tutti gli eventi di formazione che noi organizziamo qui all'ordine tra l'altro oggi ci ha prestato anche la sua stanza presidenziale per cui siamo particolarmente comodi e con un anche con un'ottima vista fuori dalla finestra per chi ha il piacere di vederlo e passo subito la parola alla collega Virginia Montani Tesei nel nostro foro la nostra iscritta dunque lei tratta il tema della compravendita di opere d'arte e del diritto di seguito Benvenuta, le passo anche il microfono Grazie mille, noi intanto ringrazio appunto l'avvocato Carla Canale che ci segue da remoto e l'avvocato Angela Dessi consigliere dell'ordine di Roma per questo invito per questo invito graditissimo oltre appunto come abbiamo detto all'avvocato Caterina Ciobattini che è stata l'ideatrice di tutto questo oggi noi parliamo di un acquisto di opera d'arte quindi quello che è il primo step che un collezionista affronta nel creare la propria collezione ogni acquisto di opera d'arte è sempre accompagnata da un'attività propedeutica alla conclusione della compravendita ovvero sia la due diligence due diligence che è un'attività che deve essere ben ponderata soprattutto in riferimento all'opera che si va ad acquistare quindi si avrà una due diligence differente tra l'acquisto di un'opera di arte antica o dei primi decenni del Novecento rispetto a una due diligence per l'acquisto di un'opera di arte contemporanea partiamo da un acquisto di un'opera di arte antica o dei primi decenni del Novecento poiché sono quelle compravendite su cui bisogna prestare maggiore attenzione ora vediamo anche il perché la due diligence in questo caso dovrà prevedere almeno tre passaggi obbligati il primo passaggio relativo alla provenienza dell'opera un secondo circa l'autenticità dell'opera e il terzo l'analisi se vi è la presenza di un vincolo di interesse culturale sull'opera stessa iniziando dalla provenienza che poi è il primo step obbligato per un legale nel momento in cui deve accompagnare un cliente nell'acquisto di un'opera d'arte antica o appunto i primi del Novecento per provenienza si intende quella ricostruzione dei precedenti passaggi di proprietà che si hanno sull'opera pertanto il primo passaggio obbligato che si ha in questo senso è la richiesta al venditore dei documenti di acquisto per documenti di acquisto si può intendere le fatture quindi gli acquisti se dovessero essere per esempio degli acquisti recenti perché è chiaro che nel momento in cui troviamo un'opera che fa parte di una collezione da molti anni o addirittura decenni se non parlare di secoli è evidente che vi è una criticità nella richiesta del documento di acquisto dell'opera d'arte ovvero nel caso in cui si dovesse parlare di una provenienza derivante da un lascito ereditario o ancora da una donazione bisognerà andare a chiedere all'acquirente di fornire la copia dell'atto testamentario delle disposizioni testamentari oppure dell'atto di donazione e già qui noi vediamo che potremmo andare incontro ad una criticità criticità data da un assetto normativo corretto di base ma che in tema di provenienza può creare delle difficoltà nel ricostruire i vari passaggi e mi sto riferendo all'articolo 9,2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 numero 346 questa norma stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell'attivo per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'assereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore ora, questa chiaramente è una norma di natura soprattutto fiscale che è molto importante sotto un profilo di pagamento delle imposte di successione ora però questo cosa comporta? comporta che se il collezionista, se l'erede decide di adottare questa normativa va via una mancanza di inventario e quindi la collezione del decuius non verrà inventariata all'interno del testamento e pertanto non vi sarà questo passaggio di, chiamiamola in maniera non corretta, questa trascrizione del passaggio di proprietà quindi la collezione o l'opera d'arte non avrà una tracciabilità circa la fuoriuscita della stessa, dalla sfera patrimoniale del decuius e l'entrata nella medesima nella sfera patrimoniale dell'erede ora chiaramente il nostro lavoro è volto alla risoluzione dei problemi pertanto si può iniziare in caso di carenza o in caso di presenza di queste criticità nel far compilare un'autodichiarazione da parte del venditore in quale appunto dichiara che l'opera ha una provenienza lecita è di sua unica proprietà perché anche qui dobbiamo riflettere su una criticità nascosta che viene molto spesso presa sotto gamba ovvero sia, cosa che capita abbastanza spesso può capitare che in maniera anche in totale buona fede si possa andare a vendere, a alienare un'opera d'arte che fa parte di una comunione matrimoniale quindi per esempio una coppia che è in costanza di matrimonio con un regime di comunione patrimoniale ovviamente quell'opera d'arte deve essere venduta congiuntamente da entrambi i coniugi quando questo non accade chiaramente si apre una criticità in capo all'acquirente che può vedersi in qualche modo rivendicato il diritto di proprietà da parte del coniuge che non voleva vendere quindi bisogna appunto prestare queste attenzioni circa la provenienza una volta concluso questo primo step circa la provenienza dell'opera bisognerà procedere sotto un altro profilo ovvero sia quello della licità della provenienza ora noi in Italia abbiamo il nucleo tutela dei carabinieri che è un eccellente organismo di tutela del patrimonio culturale ma soprattutto in tema di vendite internazionali il primo passaggio che si fa è verso l'Art Loss Register di Londra l'Art Loss Register è uno strumento, un database di natura privata quindi di privati al cui interno sono presenti tutte quelle opere che sono state oggetto di furto smarrimento noto quindi a cui vi è stata poi una denuncia la richiesta all'Art Loss Register di Londra si presenta tramite il loro portale l'interessato quindi in questo caso l'acquirente o i suoi legali vanno a presentare, a depositare le foto soprattutto in alta risoluzione fronte e retro dell'opera unitamente a tutta la documentazione bibliografia, provenienza e quanto si ha e si fa la domanda all'Art Loss Register se quell'opera è presente all'interno dei propri database l'Art Loss Register di suo accoglie la domanda entro un lasso di tempo anche abbastanza ragionevole verifica la presenza dell'opera all'interno del suo database se l'opera non è presente all'interno del suo database vuol dire che l'opera è di provenienza lecita o quantomeno non è stata oggetto di denuncia per smarrimento, furto o attenzionata e pertanto rilascerà un certificato che dovrà essere unito ai precedenti documenti relativi alla provenienza e dati così, facenti parte così della due diligence nel caso contrario, ovvero sia nel qual caso in cui l'Art Loss Register dovesse rinvenire che quell'opera è stata oggetto di furto piuttosto che di diciamo, è attenzionata dalle autorità giudiziarie nazionali e internazionali a quel punto l'Art Loss Register contatterà e la stessa in primis le autorità giudiziarie competenti quindi, facendo un sunto della situazione noi abbiamo la, come attività di due diligence da un punto di vista legale perché appunto, da un punto di vista storico-artistico lascerò la parola a chi ne sa decisamente molto più di me i primi passaggi da dover fare in tema di compravendita sulla provenienza sono appunto di andare a identificare una provenienza lecita, senza gravami e soprattutto che non abbia alcun tipo di rivendiche da parte di terzi lasciando la provenienza quindi evaso il tema provenienza si dovrà poi affrontare il tema autenticità ora, per quanto riguarda la due diligence legale in tema di autenticità delle opere d'arte noi abbiamo, richiamiamo a noi l'articolo 64 del codice dei beni culturali quindi del decreto legislativo 42-2004 che impone che chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico e di esposizione ai fini di commercio o di intermediazione finalizzata la vendita di opere all'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione pertanto, cosa vuol dire? che se io acquisto in galleria o in una casa d'aste ovviamente, verosimilmente avrò la documentazione che attesta l'autenticità dell'opera ora, nel caso in cui io non abbia questa documentazione ma non perché io non abbia acquistato in galleria o in asta ma perché questo obbligo non è risalente a tanti anni or sono e quindi il mercato dell'arte precedentemente era un mercato molto più nobile sotto certi punti di vista e data la nobiltà non veniva non veniva considerata diciamo necessaria una prova documentale circa l'autenticità dell'opera pertanto oggi quello che si è obbligatorio fare ai fini della conclusione della vendita in tema di autenticità è poi richiamare qualora ne esistano gli archivi dell'artista di riferimento e pertanto nel caso in cui ci sia un'assenza di autentica chiedere che l'opera venga autenticata e archiviata che sono due procedimenti differenti e nel caso in cui l'opera non sia di un artista che è in qualche modo tutelato dal proprio archivio fare riferimento all'esperto dell'artista per chiedere un'attribuzione quindi un'expertise che è un documento differente dal certificato di autentica che poi appunto la collega ci spiegherà meglio pertanto un'opera soprattutto di arte antica appunto o dei primi decenni del 1900 dovrà avere nel suo pedigree tutta una serie di documentazione derivante dalle due diligence appunto sulla provenienza e sull'autenticità ultimo punto di una due diligence relativa a queste opere d'arte che è il punto più nevralgico e anche a cui prestare maggiore attenzione è la presenza di un vincolo di interesse culturale sull'opera ora so perfettamente che nei precedenti incontri avete si è già discusso il tema del vincolo l'unica appunto attenzione che bisogna fare in tema di due diligence è appunto accompagnare in caso di vincolo il collezionista quindi l'acquirente nella corretta procedura da seguire questo perché perché noi sappiamo benissimo che il vincolo quando insiste un vincolo di interesse culturale l'opera a grandi limiti di gestione uno su tutti che conosciamo benissimo è l'impedimento a un'uscita definitiva dal territorio nazionale un secondo è la necessità da parte del ministero ai fini della tutela del bene di conoscere il proprietario e il luogo di detenzione del bene pertanto all'articolo 59 del decreto legislativo 42 2004 si va a regolare quella che è chiamata denuncia di trasferimento infatti la normativa cita che gli atti che trasferiscono in tutto o in parte a qualsiasi titolo la proprietà o limitatamente ai beni mobili quindi alle opere d'arte la detenzione di beni culturali sono denunciati al ministero e il ministero prevede anche dei termini entro cui farlo ovvero sia la denuncia è effettuata entro 30 giorni dall'alienante o dal cedente la detenzione in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito di trasferimento della detenzione dall'acquirente in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendite forzate o fallimentari e infine prevede anche una denuncia in occasione della successione quindi l'erede legatario in caso di successione il termine per l'erede decorre dall'accettazione dell'eredità e dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari mentre per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista ex articolo 623 del codice civile quindi questo cosa ci fa capire ci fa capire che nel caso in cui noi abbiamo un'opera in sede di due diligence che proviene da una successione e da un bene vincolato noi dovremmo richiedere al venditore sia l'atto di provenienza quindi la sul testamento o quello che sia e unitamente anche la denuncia ex 59 perché poi noi dovremmo andare a operare un'ulteriore denuncia questa denuncia deve contenere i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime e dei loro rappresentanti legali quindi nel caso di noi avvocati i dati identificativi del bene l'indicazione del luogo dove si trovano i beni proprio perché dicevamo che il ministero deve venire a conoscenza di quello che del luogo di detenzione del bene ai fini della tutela e l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini di eventuali comunicazioni ora se questa denuncia viene presentata priva di indicazioni priva degli elementi che vi ho appena detto questa denuncia si riterrà incompleta o imprecisa quindi al momento dell'acquisto si dovrà presentare questa famosa denuncia ex articolo 59 che comporta un contratto di acquisto soggetto a una condizione sospensiva cioè io devo andare nel momento in cui trascorsi 60 giorni ex articolo 61 del codice beni culturali il ministero non ha esercitato la prelazione sull'acquisto dell'opera il contratto si potrà concludere nel caso quindi in cui però abbiamo detto che la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulta incompleta il termine di 60 giorni diventerà un termine di 180 giorni perché è importante questa denuncia perché appunto in base a quello che viene dichiarato all'interno della denuncia il ministero potrà esercitare o meno la prelazione la prelazione per cui gli enti interessati quindi la regione o il ministero hanno facoltà di acquistare questi beni a titolo oneroso o al prezzo stabilito nell'atto di alienazione quindi questo richiama il principio anche dell'attestato di libera circolazione per cui il valore dell'opera che io pongo all'interno dell'atto di trasferimento della proprietà è il valore che il ministero dovrà versare nel momento in cui vorrà esercitare la prelazione pertanto nel caso in cui non venga esercitata la prelazione il cui termine di 60 giorni è un termine di decadenza il contratto di compravendita si intenderà concluso e quindi la proprietà passerà dalla sfera patrimoniale del venditore a quella dell'acquirente e finalmente si potrà concludere la compravendita dell'opera d'arte antica o dei primi decenni del 1900 questo tipo di attività di due diligence così particolare diciamo così puntuale non è diciamo non può essere non rispecchia non può essere ricopiata all'interno di una compravendita di arte contemporanea questo perché non perché l'arte contemporanea abbia meno valore dell'arte antica o dell'arte dei primi del 1900 ma perché vi sono delle condizioni endogene totalmente differenti infatti quando si parla di arte contemporanea per prima cosa si parla in teoria di un'opera di artista vivente quindi che è a noi è contemporaneo al tempo noi entriamo in una piccola diciamo in un piccolo inganno per quanto riguarda la definizione legislativa di arte contemporanea dovuta all'articolo 10,5 del decreto legislativo 42 2004 il quale cosa dice dice che le disposizioni all'interno del decreto legislativo 42 2004 non sono applicabili a quelle opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 anni quindi questo cosa vuol dire partendo da questo assunto noi sappiamo che le opere d'arte contemporanea non sono soggette a vincolo e quindi quanto diciamo prima circa gli step da seguire nella due diligence precedente non vi sarà la verifica di vincolo o meno diversamente ci sarà anche una facilità maggiore in tema di autenticità questo perché perché l'autore è vivente quindi garantisce egli stesso che l'opera è stata da egli eseguita e quindi non ci troveremo neanche in quella situazione che spesse volte capita in tema di archivi ovvero sia che per esempio un disconoscimento di un'autentica precedente dall'archivio odierno che cosa che purtroppo capita spesso o peggio ancora che l'opera venga addirittura disconosciuta e quindi archiviata come non autentica ma qui appunto lascerò sempre faccio proprio un passo indietro l'opera in tema di provenienza l'opera d'arte contemporanea in tema di provenienza verosimilmente potrà provenire o dallo studio dell'artista e quindi anche qui non vi è alcun dubbio sulla illicità della provenienza oppure da un collezionista che ha acquistato l'opera in galleria o in asta dove oggi è un mercato molto più assolutamente regolamentato e serio pertanto non vi sarà nessun tipo di difficoltà nell'andare a provare appunto un documento di acquisto tuttavia l'attenzione che il collezionista deve porre nell'acquisto di arte contemporanea è la tutela del diritto d'autore sulle opere che ha una durata diciamo soprattutto i diritti d'autore patrimoniali di 70 anni fino alla morte dell'artista dopo la morte dell'artista scusate la legge sul diritto d'autore è una legge del 1941 è la 633 del 1941 e senza dover fare appunto una lezione di diritto d'autore noi possiamo individuare la definizione di diritto d'autore appunto quei diritti che nascono in capo agli autori quando realizzano un'opera questi diritti si suddividono in diritti morali d'autori e diritti patrimoniali d'autore la cui differenza risale in maniera abbastanza superficiale in due o tre elementi il diritto morale d'autore tutela la personalità propria dell'autore e il suo riflesso sull'opera pertanto l'autore in questo caso l'artista ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e opporsi a qualsiasi deformazione a qualsiasi mutilazione o altra modifica dell'opera è un diritto inalienabile quindi non può essere trasferito a terzi senza limiti di tempo il diritto d'autore patrimoniale invece consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell'opera protetta questo diritto è alienabile a terzi quindi la cessione è prevista e deve essere fatta per iscritto e ha una durata di 70 anni dopo la morte dell'artista quindi l'errore che in cui incappano la maggior parte dei collezionisti è quello di credere che nel momento in cui io acquisto un'opera d'arte acquisto anche i diritti patrimoniali sulla stessa ovvero sia il diritto di riprodurre di pubblicare di per esempio anche abbastanza diciamo di battuta ma anche il diritto di prestito dell'opera stessa e pertanto questi diritti se non ceduti per iscritto al momento della vendita dall'artista al collezionista rimarranno in capo all'artista nel novero dei diritti patrimoniali incontriamo anche il diritto di seguito il diritto di seguito è una storia abbastanza particolare perché è un diritto che originariamente è stato previsto nel 1941 all'interno della 633 ma non aveva mai trovato la sua applicazione nel 2001 con una direttiva della comunità europea la numero 84 la comunità stessa introduce il diritto di seguito all'interno dell'Unione Europea in Italia viene recepita questa direttiva e viene introdotto il diritto di seguito con il decreto legislativo 118 del 2006 del 9 aprile il diritto di seguito lo vedrete sempre con l'acronimo DDS inserito all'interno regolato dall'articolo 144 della legge 633 del 41 è quel diritto che in capo all'autore il quale vede la maturazione di una somma di denaro in tutte quelle vendite successive alla prima successiva alla prima vuol dire quella vendita operata dall'artista che avvengono con l'intervento di un professionista del mercato dell'arte questo perché oggi noi abbiamo una grandissima criticità nell'individuare il mercato primario e il mercato secondario perché la la normativa sul diritto di seguito soprattutto italiana ha ancora delle radici in quello che era una una realtà del 1941 dove il mercato dell'arte era un mercato differente dove vi era anzi precedentemente anche dove la figura principale del mercato dell'arte era l'artista quindi non vi era un mercato strutturato e virtuoso come quello odierno in cui gli attori del mercato sono l'artista ma il gallerista la casa d'aste e pertanto come mercato primario si è sempre inteso quella vendita successiva alla prima dove la prima vendita viene dall'artista oggi si sono trovati chiaramente delle soluzioni a questo quindi contratti un contratto estimatorio o dimandato dove appunto la vendita che fa il gallerista in accordo con l'artista regolato da questo contratto verrà comunque intesa come mercato primario ora il dds viene incassato dalla CIA la società italiana autori editori che è colei che è stata nominalmente incaricata all'incasso del diritto di seguito l'incasso vuol dire che la CIA ha un mandato dagli artisti ed è colei che monitora tutti i vari passaggi soprattutto aste e gallerie e quindi richiede il pagamento agli intermediari del diritto di seguito l'artista che non ha dato mandato alla CIA non vuol dire che non è titolare del diritto di seguito semplicemente vorrà dire che sarà egli stesso a dover provvedere all'incasso delle somme pertanto quali sono le transazioni per le quali è dovuto il dds sono le cessioni di opere d'arte che siano congiuntamente successive la prima quindi opera direttamente come abbiamo detto prima dall'artista ovvero sia dalla galleria con un contratto con l'artista di estimatorio consignment o mandato attuate con l'intervento di un professionista gallerie case d'asta o altri dealers in altri settori e inoltre realizzate ad un prezzo non inferiore a 3.000 euro oppure ad un prezzo non inferiore a 10.000 euro se il venditore è acquistato direttamente dall'artista nei tre anni precedenti quindi se si verificano congiuntamente tutte queste tre condizioni allora la transazione dovrà essere soggetta al diritto di seguito il diritto di seguito è un diritto che diciamo vive sul principio di reciprocità questo cosa vuol dire vuol dire che l'artista italiano è un artista cui è riconosciuto il diritto di seguito un artista appunto un artista italiano si intende un artista cittadino italiano membro o non membro di SIAE artista che è un cittadino di altri paesi dell'Unione Europea perché appunto essendo una direttiva europea riconosciuto e c'è reciprocità in tutti i paesi dell'Unione Europea artisti che sono cittadini di paesi extra UE che abbiano la condizione di reciprocità e quindi per esempio il Brasile piuttosto che non gli Stati Uniti d'America e il il diritto di seguito è un diritto che il cui importo è definito in maniera puntuale da una tabella che si può trovare nel vademecum della SIAE ma comunque che è una tabella per legge il diritto di seguito l'importo ai sensi degli articoli 150 e 151 della 733 del 41 è determinato sul prezzo di vendita al netto dell'IVA sulla base appunto di percentuali decrescenti e scaglioni di prezzo quindi si dovrà avversare il 4% del diritto di seguito su quelle vendite che vanno ai 3.000 ai 50.000 euro il 3% per 50.000 euro e 0.1 a 200.000 euro fino ad arrivare ad un massimo di 12.500 quindi vuol dire che il tetto massimo che un artista può vedere all'interno per ottenere per una vendita di una sua opera può essere 12.500 euro ora chi paga il DDS il DDS viene pagato dall'acquirente finale dell'opera quindi io acquirente in fattura poi se mi trovo la voce costo opera accessori diritto di seguito quel diritto di seguito è mio onere da dover pagare è di solito inserito all'interno del prezzo di vendita finale dell'opera e l'articolo 152 in maniera puntuale individua anche i soggetti che devono versare il diritto di seguito la legge sul diritto d'autore infatti impone che l'onere di versamento del DDS alla CIA ricada in capo al professionista del mercato dell'arte ovviamente perché è il soggetto che è più facilmente aggredibile è più complicato andare ad aggredire il privato collezionista mentre l'onere è in capo all'intermediario galleria casa d'aste e via dicendo il pagamento del compenso e le formalità da eseguire sono a carico dello stesso venditore e in via primaria invece dall'acquirento dall'intermediario in via sussidiaria quando deve essere versato il diritto di seguito deve essere versato entro 90 giorni dalla transazione ora vi è anche tutta una diciamo una parte della legge sul diritto d'autore dell'articolo 173,3 che è detta regime sanzionatorio contro le violazioni della disciplina del diritto di seguito che tuttavia è volto alla si arriva fino alla sospensione dell'attività dell'intermediario nel caso in cui questo non avesse adempiuto agli oneri come per legge quindi io ora sono andata anche forse un po' troppo lunga chiedo venia nel caso e questo è diciamo quelle attività di due diligence propedeutiche basilari per operare in una in una compravendia di opere d'arte quanto meno diciamo più protetta possibile vi ringrazio molto esattamente allora approfitto perché qui purtroppo non abbiamo un pubblico che possa fare un applauso ma è assolutamente sentito il ringraziamento sono sicura anche da parte di chi ci ascolta perché è stata una panoramica assolutamente esaustiva e chiarissima sulla appunto sulla compravendita e diritto di seguito ma insomma la differenza tra arte contemporanea e non quindi ringrazio molto la collega e anche se è vero che forse ha superato di un pochino il termine concesso assolutamente è stato ben speso quindi ne approfitto e passo velocemente la parola alla professoressa Sharon Ecker che è collegata benvenuta professoressa dell'università cattolica del sacro cuore di milano mi sente professoressa benvenuta la vediamo se non sbaglio lei ha delle slide siamo d'accordo che chiederà di mandarle avanti di volta in volta così da favorire la visione anche a chi è collegato da casa dunque la professoressa tratta il metodo per definire la due diligence delle opere d'arte prego le passo la parola grazie benvenuta di nuovo primo slide va benissimo qui buongiorno a tutti e grazie grazie di questo invito anche sempre un piacere parlare a un gruppo di avvocati e grazie soprattutto all'avvocato Ciabattini per avermi incluso e mi ha chiesto di parlarvi di un metodo per definire la due diligence per le opere d'arte avete sentito anche bene adesso dall'avvocato Tesei i vari step per la due diligence legale e io vorrei parlarvi di un attrezzo che potrebbe aiutarvi come professionisti a svolgere meglio il vostro lavoro quanto si tratta di autenticità e di attribuzione e se può mandare avanti il prossimo slide ecco perfetto il metodo che ho brevettato si chiama The Hacker Standard è un approccio di best practices per evidence based che per avvocati secondo me ha molto senso perché si basa sulle prove di condurre la due diligence quando si tratta di una due diligence per l'attribuzione e l'autenticità delle opere d'arte solo per dirvi che insegno questo corso di approfondimento della due diligence per professionisti in un modo etico e trasparente alla LUIS a Roma e alla Bocconi in Art Law all'Università di Milano un corso di perfezionamento per il diritto dell'arte e in vari corsi di management dell'arte all'Università Cattolica all'Università di Pavia e anche all'estero e anche un aspetto di advocacy nel senso che ho fornito pareri al Parlamento Europeo per esempio per la due diligence sulle opere rattiate e collaboro anche con studi legali in problemi di autenticità non in Italia particolarmente ma in altri paesi e allora prossimo slide ecco ho immaginato la Hacker Standard come una nessuno vi chiederà mai di diventare esperti di Rembrandt o di Pollock o di Fontana ma come il responsabile per la sicurezza del lavoro su un cantiere non siete l'architetto non siete l'impresa non siete l'ingegnere però potete avere una conoscenza dei campanelli d'alarme per i attrezzi che state utilizzando che avete sentito adesso l'avvocato Tesei ha parlato di certi attrezzi e per darvi una delle tante il catalogo ragionato a cui ci affidiamo tutti sappiamo benissimo che ci sono dei cataloghi ragionati più affidabili di altri e ci sono cataloghi ragionati che hanno delle problematiche e dobbiamo essere sicuri come l'ha detto la sicurezza essere sicuri che ci entriamo protetti in questi mondi dell'ecosistema dell'arte quando controlliamo le opere prossimo slide una oh l'ho mandato il powerpoint sbagliato non importa una delle ispirazioni per questo lavoro è stato in parecchi anni che faccio parte del vetting committee della fiera TEFAF TEFAF è la fiera più antica internazionale del mondo e ha un sistema molto trasparente e indipendente per controllare le opere i galleristi allestiscono i stand poi viene sigillata la fiera e per due giorni ci sono di esperti molto professionalizzati molto specializzati in vari settori io lavoro sulla scultura dell'ottocento novecento per esempio in cui controlliamo tutta la documentazione e tutte le attribuzioni date alle opere d'arte e devo dire che non accettiamo mai per esempio semplicemente la parola di un gallerista che certifica ci devono essere delle certificazioni da studiosi specializzati e si può andare avanti e coordino anche il pool dei esperti expert witnesses dei periti per la corte arbitrale per l'arte dove abbiamo creato dei pool per provenienza e devo dire che provenienza per noi ha una definizione leggermente diversa perché la provenienza per noi è un campo altamente specializzata quindi non è semplicemente dove il gallerista ha ottenuto l'opera ma ci sono esperti di provenienza di arte razziata dai nazisti provenienza di arte balcanica provenienza di arte africana la provenienza ormai è un oggetto di studio molto speciale e quindi quando uno si trova con un caso legale è all'AIA questa corte arbitrale per l'arte che ha avvocati e giudici specializzati in arte da tutto il mondo si troverà anche con un pool di esperti che sono stati già settacciati c'è anche un pool di esperti per materiali scientifici non abbiamo esperti per ogni singolo autore o artista perché sarebbe infinito quelli vengono chiamati ad hoc usiamo anche la hacker standard in un gruppo che abbiamo messo insieme alla camera di commercio di Milano che si chiama Peritop dove stiamo cercando di verificare l'idoneità anche etica di aspiranti periti che poi diventeranno per voi CTU e abbiamo inserito delle domande nell'esame che ha da fare con alzare il livello di periti con il metodo della hacker standard prossimo slide poi cerco di collaborare più possibile anche con conversazioni con il mondo legale per esempio in questo libro ho scritto un capitolo sulla due diligence in questa rivista sulla destra è una rivista a cui faccio parte del comitato scientifico dell'università di Milano dove si fanno si intrattengono conversazioni tra storia dell'arte e diritto ed emergono delle punti di vista anche molto diversi sullo stesso problema prossimo slide e infine abbiamo creato un corso per la gestione dell'attività della due diligence dell'arte all'università di Pavia e per professionisti che hanno già esperienza in tutto l'ecosistema dell'arte abbiamo avuto avvocati periti art advisor fondazioni d'arte per imparare un sistema per lavorare in modo coordinato sulla due diligence per le opere d'arte ed è sabato mattina tutto online quindi è molto idoneo a persone che lavorano già prossimo slide i principi generali di ogni due diligence sicuramente non devo dirvi che siete avvocati è identificare valutare prevenire e mitigare i rischi e poi rendersi conto creare un report io sono non tanto a favore di certificati di autenticità perché come sapete anche voi avvocati la due diligence non è sempre un sì o no bianco e nero ma ci sono delle zone grigie e quindi uno dovrebbe essere in grado di essere molto trasparente su quelle informazioni che riesce a raccogliere in una due diligence e non c'è nulla che fa arrabbiare di più un collezionista che si rivolge a una fondazione si rivolge a un esperto e gli dicono che l'opera è falsa ma non spiegano il perché questo nascono molte cause legali su questo problema prossimo slide e la due diligence nella finanza o nel diritto è ovvio che sarà un'analisi attenta e approfondita con l'aiuto di specialisti qualificati e soprattutto indipendenti che non hanno conflitti di interessi è una garanzia di obiettività sulla valutazione e i rischi relativi a un investimento o a una causa ed è condotto secondo standard ben definiti prossimo slide nel mondo della medicina fate la due diligence senza neanche pensare avete male da qualche parte andate a fare una visita medica da un medico scegliete il medico per le sue qualifiche per la sua reputazione coinvolgerete probabilmente anche specialisti se è un problema specifico farete gli esami diagnostici non ci sarà una parere perché lo dice il medico ma perché avete fatto dei esami diagnostici c'è una formulazione della diagnosi che è ovviamente l'arte del medico ma se non siete soddisfatti potete liberamente andare a una seconda una terza opinione non è così nel mondo dell'arte andiamo avanti la due diligence nel mondo dell'arte purtroppo è un termine non ancora ben definita abbiamo molte definizioni c'è una gran mancanza di trasparenza nel mercato dell'arte è una simmetria di informazioni che uno può avere non c'è un sistema una legge uniforme per come sia autentica un'opera d'arte e vengono molti conflitti di interessi quindi è un mondo molto più difficile in cui fare la due diligence però in un mondo non regolato è l'unico modo è fare la due diligence sì prossimo vi do solo un esempio eclatante Salvatore Mundi conoscerete tutti l'opera più costosa mai venduta all'asta 450 milioni di dollari è un'opera che è stata venduta con un'attribuzione contestata non c'è alcun documento che riporta alla vita di Leonardo ci sono provenienze incomplete ci sono zone che non sappiamo periodi dove è stata quest'opera e poi quello che io chiamo una deformazione di expertise qualificata hanno portato vari esperti a vedere l'opera hanno detto bellissima opera non hanno detto che era di Leonardo si sono trovati con il loro nome come autenticatori dell'opera e hanno dovuto fare passi dopo ufficiali per dire non abbiamo mai autenticato quell'opera andiamo avanti problemi di autenticità avete le autentiche che avete sentito molto di questa frase in buona fede in queste settimane il problema delle autentiche è che vengono fornite senza spesso prove per appoggiare le opinioni prove che voi anche avvocati potete seguire c'è una mancanza dei serie di passi standard compiuti e c'è una mancanza di trasparenza sul modo in cui si è giunta la conclusione starebbe come se a scuola fate un problema di matematica arrivate alla soluzione sbagliata ma non fate vedere tutti i passi come fa il professore a capire dove avete sbagliato se non avete trasparenza sui vostri passi andiamo avanti ecco se voi pensate che stiamo andando verso un mondo più trasparente questi sono problemi legali sempre più frequenti per esempio questo è stato una una causa del 2022 il gallerista Eskenazi un gallerista importantissimo inglese che ha venduto prossimo slide a un sceicco per 4 milioni di sterline se può cambiare prossimo 4 milioni di sterline delle opere antiche che dopo la vendita si sono trovati falsi sono stati controllati purtroppo solo dopo la vendita e una mia collega ha trovato schegge di plastica dentro è una macchina elettrica che ha levigato le superfici prossimo slide purtroppo la due diligence non è stata fatta prima lo sceico fa causa al gallerista per violazione del contratto dichiarazione dei falsi violazione del dovere di diligenza e frode purtroppo andiamo avanti ed è stato stato dichiarato come provenienza lecita quando vediamo anche nell'arte illegalmente trafugata questa è una gallerista che per molti anni vendeva opere antiche ai migliori musei americani durante la causa ha detto per decenni ho condotto affari in un mercato in cui la compravendita di antichità con una provenienza vaga o addirittura inesistente era la norma l'offuscamento e silenzio erano risposte accettate alle domande sulla fonte da cui un oggetto sia stato ottenuto in breve si trattava di una cospirazione di volenterosi per cui il fatto che non si fanno troppe domande ovviamente c'è il certificato ma il certificato vale poco andiamo avanti questa è solo la mia immagine ancora del mondo dell'arte andiamo avanti perché è necessario un metodo condiviso per la due diligence per le opere d'arte andiamo avanti è una questione di esperti e di expertise l'avvocato ha parlato di avere dei expertise bisogna andare adesso a indagare su che tipo di expertise riceviamo chi sono gli esperti che ci forniscono l'expertise andiamo avanti noi come esperti d'arte purtroppo a differenza di voi avvocati non abbiamo nessun albo non c'è nessuna necessità di un titolo di studio per esprimere un expertise non c'è nessuna vera conseguenza per aver sbagliato perché c'è la libertà di esprimere un'opinione garantita dalla legge poi c'è un diritto morale dei eredi che è una cosa molto strana perché nessun altro settore nel mondo se tuo nonno era neurochirurgo tu automaticamente sei autorizzato ad aprire il cervello di qualcuno è un ruolo professionale per cui si studia mancanza di professionalizzazione nel ruolo poi ci sono dei casi veramente estremi dove hai una erede di 500 anni dopo che sta fornendo certificati di autenticità c'è una mancanza di criteri condivisi per l'espressione di un'opinione e c'è anche il rifiuto di studiosi seri di pronunciarsi quando c'è un'opera sul mercato perché potrebbero rimanere esposti e purtroppo ci sono delle istituzioni impreparati che li trovate anche online due diligence in 24 ore che spesso sono pronti a riempire questo vuoto andiamo avanti a quale professionista bisogna rivolgersi è molto importante questo se io chiedo una stima economica io devo rivolgermi a un perito a un gallerista se io voglio un expertise devo appoggiarmi a uno storico dell'arte a una due diligence storico-artistica e queste due cose non sono la stessa cosa andiamo avanti vi ricordate la mostra di Modigliani del 2017 andiamo avanti la mostra in cui un terzo delle opere si sono rivelate false e questo è anche la prossima slide va bene e anche il prossimo e qui io ho guardato online velocemente come sono state verificate ad approvate le opere e da chi quale due diligence quale expertise e ho trovato che il curatore ha affermato che ogni opera nel catalogo è stata ispezionata con attenzione prima di essere messa in mostra da un restauratore d'arte il quale ha determinato la provenienza ma la provenienza è un altro settore in base a standard internazionali che non so quali siano non va dimenticato che le opere ritenute false sono tuttavia corredate da ricche bibliografie numerose posizioni pubbliche sinora mai contestate il problema che non tutte le bibliografie vagono non tutte le mostre sono serie e un'opera può girare per molti anni un falso prima di essere fermato andiamo avanti è stato anche al museo di Ghent stesso problema andiamo avanti una una direttrice di un museo è stata approcciata da questo signore russo con una collezione inedita di opere russe già un enorme campanello d'alarme prossimo slide si apre la mostra e la mattina dopo si scopre che tutta la mostra erano opere false tutte e purtroppo nessuna due diligence è stata fatta prima di far entrare queste opere nel museo andiamo avanti se qualcuno si fosse turbato a guardare anche velocemente avrebbe visto dei bei M. Kandinsky come firme andiamo avanti e i cataloghi erano photoshopati quindi la documentazione è molto importante farla due diligence anche sui cataloghi sulla destra un vero catalogo sulla sinistra hanno inserito le immagini e i nomi delle opere andiamo avanti è successo anche nel mercato uno scandalo enorme che magari avete visto anche il Netflix è la galleria più famosa più di grande reputazione di New York per anni dell'ottocento anzi per anni stavano vendendo falsi di Rothko Pollock Motherwell e de Kooning per prezzi altissimi milioni di dollari e prossimo slide fatti alla fine scoperti fatti da questo signore cinese nel suo garage non tanto lontano dalla galleria e andiamo avanti durante la causa la direttrice della galleria ha dovuto chiudere i battenti della galleria purtroppo pagando delle cifre molto alte per chiudere questi processi però ha aperto un'altra galleria a New York se qualcuno si fosse turbato di guardare anche lì il signor cinese dimenticava la C sempre in Pollock andiamo avanti e un altro caso sempre Pollock per caso è un prossimo slide vendute a musei e collezioni molto importanti questi Pollock prossimo slide che c'è da questo signore James Brennerman che aveva figli aveva lasciato tutta la sua collezione al suo servo preferito purtroppo quando hanno cominciato a guardare bene le documentazioni dopo le vendite andiamo avanti hanno scoperto che tutte le foto delle immagini della casa di signor Brennerman erano dei meravigliosi photoshop incluso uno là alla sud della villa di signor Brennerman era un photoshop del castello sforzesco di Milano andiamo avanti ovviamente siamo nell'epoca del fake news Trump ha un quadro di Renoir in casa sua il museo di Chicago gli ha già detto che loro hanno il quadro e lui no ma lui sostiene che il suo è quello vero è quello del museo di Chicago non è quello vero ok andiamo avanti perché un approccio basato sulle prove e non sui nomi solo di esperti che dureranno molto di più di un cambio di un esperto a una fondazione andiamo avanti noi abbiamo tre strumenti velocemente vi illustrerò che possiamo usare una si chiama conosurship una si chiama provenienza una si chiama analisi scientifica e tecnica bisogna usare tutte e tre noi chiamiamo lo sgabello a tre gambe proprio perché non funziona solo con uno o due di questi atleti andiamo avanti e l'arte come la diagnosi e la triangolazione di queste prove non è A più B più C ma se uno ha anche delle discrepanze deve capire perché andiamo avanti e conosurship saprete quello di cui siete più abituati in Italia l'analisi visiva da parte di un conoscitore non utilizza strumenti o tecnologia usa solo l'occhio l'esperienza l'intuito l'istinto dell'esperto dicono che non può essere insegnata o in certo senso è vero le caratteristiche particolari dell'artista il suo stile la sua tecnica sono quelli che danno un primo impulso all'esperto per capire se ha ragione per l'autenticità o l'attribuzione di un'opera e sono molto forti prossimo slide e ha usato un buon conosurship per esempio questo caso che avete visto nella vostra prima relazione la prima settimana di questo corso sulle coppie la coppia dei Bari di Caravaggio e Thwaites versus Sotheby's dove un grande conosur di Caravaggio Richard Spear ha dovuto convincere il giudice non solo perché lo dice lui ma perché il giudice deve vedere esattamente come lui di quello che parla prossimo slide infatti ha fatto vedere pezzo per pezzo in questo quadro perché la coppia come vedete la piuma a destra c'è la coppia non era fatta bene come lo fa Caravaggio sulla sinistra e c'erano tantissimi di questi dettagli e il giudice ha detto io riesco a capire benissimo quello che lei dice questo è soddisfacente come prova andiamo avanti e attenzione però all'occhio a conoscerci perché non è per niente infallibile questo signore Wolfgang Beltracchi è andato avanti per anni a cercare nei cataloghi ragionati delle opere introvabile e li faceva emergere dipingendo coppie molto molto fatte bene dei falsi di artisti molto importanti prossimo slide per esempio questo Max Ernst è riuscito anche a convincere la famiglia di Max Ernst è anche il più grande studioso di Max Ernst che era lecito e delle opere sono finite in copertina alle case d'aste in vendita finché non è stato scoperto andiamo avanti e lui andava alle case d'aste a proposito della documentazione con questa foto che ovviamente vedete che è sua moglie travestita da un erede compleso con perle e i capelli tirati indietro con delle opere che lui dipingeva dicendo che lei li ha ereditati da un grande collezionista in famiglia e questo è bastato come prova che queste opere erano autentiche andiamo avanti purtroppo quando hanno cominciato dopo anni a vedere le etichette hanno trovato tracce di caffè perché sono state invecchiate col caffè hanno trovato che erano fotocopie che ovviamente non esisteva all'epoca e la colla non era d'epoca quindi attenzione anche alle etichette andiamo avanti una cosa interessante su cui non posso parlare a lungo è questo ritratto di cosiddetto ritratto di Franz Als venduto per 8,5 milioni di sterline in un'asta che poi si è rivelata falsa se andiamo alla prossima slide ovviamente la casa d'asta ha fatto causa alla persona che ha consegnato l'opera e il giudice ha detto una cosa molto interessante che al momento della vendita non c'era un general accepted view un gov che i studiosi non si erano ancora pronunciati sull'autenticità di quest'opera un'opera che non aveva una provenienza non è stata pubblicata e non è mai stata in mostra non doveva andare in asta andiamo avanti con sponsorship quindi sì ma non da solo è supportato da altre prove prossimo e ricordate anche i restauri perché noi a Tefa guardiamo moltissimo i reports dei restauri questo è Salvatore Mondi prima del restauro è stato restaurato per 80% vedete non solo restaurato ma proprio ridipinto in certe zone e questo si viene a domandare se si può chiamarlo un'opera autentica di Leonardo se lo fosse con un grado così alto di restauro andiamo avanti provenienza la seconda di cui avete già sentito anche nella precedente intervento è la catena di tutti i passaggi di proprietà fino all'artista non è la casa di Beyoncé o la collezione di Brad Pitt se documentata può essere un indicatore molto forte se appoggiata da conossurship e l'analisi scientifica convincente diventa ancora più sicura andiamo avanti occhio però alla provenienza perché non è sempre possibile essere completi e questo va dichiarato disclosed con la hacker standard spesso la provenienza non è fornita c'è leggi sulla privacy che danno l'idea di una collezione privata sotto il quale ci può nascondere di tutto anche antiriciclaggio di denaro anche opere razziati dai nazisti è molto difficile arrivare a volte a tutta la provenienza andiamo avanti e ci sono anche false rassicurazioni nelle provenienze ci sono nomi di proprietari conoscenti diretti dell'artista aggiunte alla provenienza o i nomi che possono essere anche inventati o non dimostrabili quindi bisogna indagare bene bene se queste provenienze siano vere andiamo avanti infatti le etichette che a volte attestano una provenienza possono essere falsificate noi vediamo a Tefaf delle etichette contraffatte andiamo avanti questo è un esempio di una mostra in Florida di qualche anno fa era anche destinata a venire in Italia il direttore del museo ha accettato un'enorme mostra di opere di Basquiat perché aveva una provenienza ottima i garage di Gagosian sono stati fatti nel garage di Gagosian miglior provenienza di così non c'è andiamo avanti purtroppo c'è stata una soffiata dell'FBI e dicevano che le opere non state fatte su retro di cartoni di scatole di FedEx prossimo slide purtroppo il logo di FedEx che era sui cartoni è stato creato nel 1994 ma Basquiat è morto nel 1988 quindi attenti alle provenienze falsificate andiamo avanti la terza e ultima parte sono le analisi scientifiche e tecniche sono molto utili per svelare un falso quando scopri nell'opera un materiale che non esisteva all'epoca dell'artista purtroppo non bastano per provare l'autenticità perché perché se un artista era famoso in vita facevano anche copie falsi d'epoca e usavano i stessi materiali poi sempre bisogna contestualizzare i risultati nella storia della tecnica e nella produzione dell'artista va bene se c'è un cobalto blu ma noi dobbiamo sapere se Van Gogh ha usato cobalto blu andiamo avanti attenzione di nuovo alle prove scientifiche vi ricordate benissimo le sculture di Modigliani buttate nell'arno creati da questi tre ragazzi coi Black & Decker la prova schiacciante era che erano fatti da Pietra di Livorno Pietra di Livorno possiamo trovare anche noi oggi quindi non può essere l'unica prova dell'autenticità di un'opera di Modigliani anche perché è nato a Livorno ma non ha mai scolpito a Livorno andiamo avanti ci possono essere anche una molteplicità di opinioni interpretazioni come in tutte le scienze non c'è un'opinione unica le prove possono portare anche a conclusioni diverse e questo va messo in conto come un rischio andiamo avanti attenti anche alle battaglie tra esperti uno compra un'opera d'arte autenticata dall'esperto X compra l'opera esperto Y il giorno dopo dice che l'opera non è vera quindi Hacker Standard dice raccogliere tutto prima e vedere le prove che vengono fornite piuttosto che il nome dell'esperta andiamo avanti le attribuzioni possono cambiare col tempo questo è un rischio inevitabile come ogni scienza prima avevamo AstraZeneca poi non abbiamo più AstraZeneca adesso abbiamo solo Pfizer la conoscenza va avanti e questo bisogna prendere atto non può essere una cosa sempre blindata perfettamente andiamo avanti tra l'altro la due diligence non è blindata questo è un quadro di Van Gogh che è stato messo in soffitta per cento anni perché il proprietario pensava che fosse falsa è stato tirato fuori portato al museo Van Gogh che anche loro hanno detto che è falsa poi andiamo avanti hanno continuato sono stati bravissimi perché poche fondazioni accettano di rivedere i loro passi per un po' di anni hanno rilavorato su questo quadro hanno trovato per esempio un numero 180 che nessuno ha mai notato andiamo avanti hanno trovato che il numero combacciava con un'opera nel registro del fratello che mancava poi molte altre prove sono emerse andiamo avanti e quindi loro hanno svelato un capolavoro hanno omesso che hanno sbagliato le opinioni sono cambiate i studi sono andati avanti andiamo avanti ultimo è un caso di cui mi sono occupata io per uno studio legale questo signore è andato a una fondazione ha portato un quadro pieno di autentiche pieno di lettere che sostengono dell'autenticità dell'opera è andato alla fondazione ha pagato molti soldi la fondazione entro 20 minuti gli ha detto che l'opera era falsa arrabbiatissimo voleva fare causa abbiamo detto studiamo prima e vediamo com'è veramente questa situazione prima abbiamo fatto un esame visivo dell'opera andiamo avanti questo è solo un dettaglio abbiamo studiato la provenienza abbiamo fatto tutta un'analisi storico-artistica andiamo avanti abbiamo studiato i pigmenti la storia dei restauri la firma dei documenti non riuscivamo ad arrivare a una conclusione grandi esperti di questo artista hanno detto che c'è qualcosa che non va ma non riuscivano a fornire una prova andiamo avanti anche la firma abbiamo studiato era sul primo strato non è stato mai aggiunto ma c'era qualche problema con l'adattazione che non combacciava andiamo avanti abbiamo studiato l'etichetta andava benissimo per l'epoca andiamo avanti e io una notte ho detto caspita Sharon non hai guardato i fiori sono crisantemi quindi sono andato online ho cercato l'associazione mondiale dei amanti dei crisantemi ho mandato l'immagine ho detto ditemi solo se questo tipo di crisantema esisteva all'epoca di questo artista loro mi hanno mandato subito una risposta dicendo no l'unico tipo di crisantema che esisteva in quell'anno era questo tipo di fiori di pom pom che vedete a destra andiamo avanti invece il nostro era un petalo di drago che è stato importato come semi dal Giappone in Europa solo nel 1861 quindi sapevamo che l'opera non poteva essere era una coppia d'epoca una falso d'epoca quindi i materiali combaciavano ma l'opera non era di questo artista e infine ultimo slide volevo solo spezzare una piccola attenzione all'intelligenza artificiale perché loro dicono che possono eliminare ogni intertezza sull'autenticità e che eliminano la soggettività andiamo avanti purtroppo poi due gruppi diversi hanno cercato di autenticare questo stesso quadro per vedere se era a mano di Raffaele o no e ognuno di loro è venuto con una risposta diversa una diceva che senza dubbio era autentico e una che diceva che era senza dubbio falso quindi forse ci vorranno per un po' di anni ancora gli umani che fanno lavorano sull'autenticità ultimo slide grazie mille allora io ringrazio la professoressa devo dire ci ha lasciato a bocca aperta senza parole perché almeno personalmente probabilmente gli esperti qui al tavolo sapevano già ma io non potevo immaginare anche di tante mostre basate praticamente sul falso comunque insomma non verificate nelle opere proposte quindi devo dire la ringrazio perché è stata veramente brillantissima molto avvincente e tra l'altro ne approfitto quindi per chiederle se io posso mettere a disposizione dei nostri avvocati le sue slide o le richieste assolutamente e allora veramente la ringrazio moltissimo abbiamo capito l'importanza insomma delle due diligence e le analisi approfondite che necessitano perché appunto tra l'altro l'ultima sua descrizione peraltro anche un'esperienza personale ci fa capire come soltanto insomma la pervicacia e la voglia di andare fino in fondo poi ci aiuta a scoprire ecco eventualmente se non si tratta di opera vera quindi grazie grazie ancora io passo velocemente la parola al dottor Fabrizio Russo direttore di famosissima galleria d'arte dunque lui si occuperà di parlarci della negoziazione di opere d'arte tra privati nelle case d'asta e nelle gallerie quanto meno mai calzante dopo anche questa serie di questioni di cui ha parlato la nostra professoressa prego buongiorno a tutti e grazie per l'invito innanzitutto devo dire due interventi formidabili e direi anche memorabili Sharon fantastica fantastica a questo punto tutti quanti coloro i quali sono diciamo in contatto con questo convegno consiglieranno anzi raccomanderanno ai loro clienti di non spendere più un euro nel mondo dell'arte fortunatamente non è così nel senso che la storia dell'arte è costellata di sorprese e Sharon ne ha data un'ampia testimonianza temo purtroppo che sia solamente una punta di un iceberg per questioni di tempo alcune anche veramente glamorose però possiamo di contro dire che la storia dell'arte anzi il mercato della storia dell'arte è costellato anche di grandissime soddisfazioni per quello che mi riguarda io occupandomi di novecento parto già da un plus che per quello che riguarda invece il mercato antico non esiste e cioè gli artisti erano vivi durante il periodo del novecento nel quale è entrato in voga l'uso di cataloghi riepilogativi del loro corpus opere faccio un esempio per tutti per esempio Giorgio Morandi prima di lasciarci ha dato alle stampe tramite Lamberto Vitali grandissimo e serissimo storico dell'arte degli anni cinquanta e sessanta ha dato alle stampe un catalogo generale che oggi fa testo e garantisce per il mercato internazionale una crescita armonica ma soprattutto costante nel tempo quindi questo è il primo presupposto che poi porta diciamo a tutta una serie di considerazioni e cioè che praticamente oggi il mercato del novecento rispetto al mercato antico senza nulla togliere al mercato antico e aggiungo a mio avviso anche in maniera ingiusta ed incomprensibile delle volte è molto molto più importante rispetto a quello appunto dell'antico questo perché perché l'attribuzione spesso e volentieri è incontestabile in quanto fatta durante la vita dell'artista e quindi l'opera spesso è stata riprodotta nei cataloghi storici di mostre storiche di monografiche piuttosto che di cataloghi generali con l'artista in vita ergo quel determinato dipinto non potrà più essere contestato è vero di contro che come ha detto giustamente Sharon gli archivi si succedono fra di loro sto divagando ma arrivo poi al punto delle documentazioni apparentemente divagando e per questo motivo che noi abbiamo assistito io sono 40 anni che faccio questo mestiere ma la mia famiglia sono 125 abbiamo assistito nel corso dei decenni il succedersi di vari archivi che purtroppo a volte se non addirittura spesso rimettono in discussione tutto il corpus delle opere archiviate fino a quel momento dal precedente archivio a questo proposito io oltre 20 anni fa tramite il mitico Fabrizio Lemme forse posso dire colui che ha che ha aperto la strada di una di un approfondimento legale dei beni culturali e quindi delle contrapare vendite caldeggiai e lui condivise con me un convegno all'Accademia di San Luca attraverso il quale sarebbe dovuto gettare il sasso sulla discussione di riconoscere legalmente da parte del Ministero dei Beni Culturali gli archivi in quanto tali quindi in quanto detentori effettivi di documenti completi riconducibili al corpus delle opere dell'artista non che si svegliano una mattina io faccio l'archivio di Pippo di Plutto di Paperino quindi un riconoscimento ufficiale e quindi anche una tutela ma di contro la proposta a suo tempo era quella di obbligare gli stessi archivi di dare alle stampe periodicamente ogni quinquennio avevo proposto alle stampe un repertorio opere archiviate in quella finestra temporale a che cosa si potrebbe raggiungere ovviamente ancora è rimasto lettera morta perché si va a scontrare con moltissimi interessi non dimentichiamoci che il nostro mondo non è che brilla per trasparenza e quindi per questo bisogna essere più precisi possibili e devo anche spezzare una lancia a questo convegno ma a tanti convegni che si stanno facendo perché vent'anni fa sarebbe stato impensabile un approfondimento di questo genere cioè ci si sta prendendo coscienza si sta prendendo coscienza dall'importanza del mercato dei beni culturali cosa si potrebbe riuscire ad ottenere attraverso un'obbligatorietà da parte degli archivi di dare alle stampe un repertorio opere innanzitutto si entrerebbe nel mondo della statistica e cosa voglio dire di un artista morto 50 anni prima del quale è uscito un catalogo generale potrebbe riuscire all'anno 4 5 10 opere inedite se ne escono centinaia la cosa non va più bene è sospetta e la mia osservazione è un'osservazione perché so che in questi decenni sono usciti archivi che hanno archiviato un'ira di Dio di opere d'arte poi ovviamente contestate dal successore la seconda si potrebbe calmirare il mercato e monitorarlo perché la richiesta dell'opera d'arte di autentica dell'opera d'arte sta alla vendita come la richiesta di una visura catastale sta alla vendita di un immobile è la stessa identica cosa spessissimo quantomeno si richiede una autentica in virtù del fatto che si voglia vendere si potrebbe aprire una fonte di informazione importante per il nudo dell'opera umano culturale che sfogliando semplicemente le opere pubblicate nel catalogo di riferimento dell'artista potrebbero emergere opere disperse da tempo e ricercate per in quanto oggetto di trafugazione di furto più tutta una serie di riflessioni la cosa è rimasta lettera morta ma certo oggi dobbiamo essere consapevoli che per quanto riguarda il novecento la possibilità di approfondire e di tutelarci è sicuramente maggiore senza nulla togliere all'antico ma è sicuramente maggiore proprio in virtù del fatto che gli artisti erano in vita quando si davano alle stampe i loro cataloghi e su questi noi cerchiamo di lavorare questo non vuol dire però che anche nel novecento non ci siano state sorprese molto spesso anche grosse importanti possiamo ricordare una per tutte lo scandalo delle copie delle opere d'arte vendute come originali o addirittura prese da collezioni di clienti per mostre pubbliche e restituita la fotografia e il cliente o piuttosto la scultura e il cliente non se ne accorgeva per ovviare a questi tipi di pericoli che sono dietro l'angolo e me ne rendo conto la galleria in questo momento ha messo su una serie di operazioni come la due diligence iniziale di cui parlava l'avvocato Montani Tesei proprio in virtù di una tutela finale dell'acquirente e perché no anche del venditore iniziale ma soprattutto sulla scorta di 40 anni di esperienza ha una sorta di ISO 9000 applicato e applica tutt'oggi che va a tutelare l'acquisto il più possibile l'acquisto da parte del collezionista e andiamo anche nel dettaglio e cioè vi sono degli obblighi legali che prevedono che nel momento in cui l'opera esce dalla galleria d'arte sia fornita inizialmente che è la cosa principale del timbro e della firma a retro sul dipinto della galleria e del titolare della stessa questo perché cosa per garantire nel corso dei decenni successivi sia la provenienza perché nel momento in cui manca un timbro a retro dopo 20 30 anni ipotizziamo che l'opera venga dichiarata rubata negli anni precedenti il privato non potrebbe essere in condizione di dimostrare la provenienza corretta e secondo per un'assunzione di responsabilità perché io ti vendo il quadro lo timbro a retro ti do tutta una serie di documenti che adesso andremo ad elencare proprio in virtù del fatto che sono un professionista serio parlo in prima persona ma chiaramente mi visco a tutti i professionisti del mercato e quindi ti garantisco quello che ti sto vendendo ovviamente e questa è una sfumatura ma questa sa va a san dire se fosse un'opera su carta l'opera va firmata a matita ugualmente a retro cioè non deve essere un alibi perché esistono delle opere a matita che sono importantissime e lo stesso e vanno garantite come provenienza come seconda diciamo passaggio molto importante bisogna fare una compilare un documento interno alla galleria su carta intestata dalla galleria con fotografia è fondamentale questo passaggio del dipinto stesso di da schedina scientifica del dipinto con esposizioni e bibliografia a seguito ovviamente timbrato e firmato in originale dal venditore l'inevitabile emissione fattura che ti testimonia e ti conferma ad eterno l'esborso economico che l'acquirente ha affrontato in mancanza di necessità di fare fattura bisogna allegare alla vendita del dipinto lo scontrino e una dichiarazione a richiesta di valore stesso nel caso in cui veniamo alle documentazioni diciamo bibliografiche catalogo generale perfetto bisogna fare le fotocopie del catalogo generale e timbrare in originale sempre la 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 fotocopia del catalogo generale di tutte le pubblicazioni che vengono date a corredo in ultime due passaggi e poi affrontiamo il discorso del rilascio dell'autentica che forse è il punto nodale che forse interessa più di tutti in ultimo si possono fare nel caso in cui le opere acquistate dal cliente sono di particolare significativo economico una copertura assicurativa valevole per un anno a carico dell'azienda che lo vende con stima accettata stima accettata significa che un perito della compagnia interviene nella compravendita e conferma l'autenticità lo stato di conservazione del dipinto che è una cosa ormai molto richiesto il condition report e finora non è stato affrontato ma penso che dopo sia oggetto del convegno lo stato di conservazione ed il reale valore assicurato in ultimissima diciamo elemento di sicurezza e tranquillità per l'acquirente l'azienda quando ci si trova di fronte a un deal veramente molto importante richiede al nucleo tutt'era patrimonio culturale dei carabinieri un documento nel quale si attesta che il dipinto in oggetto non è presente nei loro database è una sorta di art loss registraire di cui faceva l'avvocato Montanelli interno diciamo ai confini nazionali a questo proposito preciso che negli ultimi periodi per una più rigorosa e rigida osservanza della privacy non ci è più permesso o meglio ci è permesso ma rischiamo chiedere informazioni al nucleo quindi nei mandati a vendere piuttosto che nelle acquisizioni che la galleria fa deve mettere una una specifica che il venditore autorizza l'azienda ad approfondimenti anche di questo genere arriviamo al discorso delle autentiche discorso delle autentiche che ovviamente vanno date in allegato questo è superfluo timbrate e sempre firmate in originale dalla galleria è un problema un problema serio perché un conto è se si sta vendendo un'opera storicamente inattaccabile pubblicata su tutti i cataloghi generali che ha partecipato a mostre pubbliche importanti biennali quadriennali un conto invece è vendere una cosa che non ha una storia così significativa purtroppo non c'è oltre a chiedere a un archivio una conferma di autenticità doverosa più di tanto bisogna essere sinceri non c'è da fare perché si osserva strettamente la normativa vigente si prendono responsabilità di quello che si sta vendendo ma non si può dare una garanzia ad eterno sempre se l'opera non è stata riprodotta non ha una bibliografia scientifica adeguata non si può garantire ad eterno che colui il quale verrà successivamente confermerà quello come archivio confermerà l'archivio precedente sulla suddetta opera purtroppo anche personalmente in 40 anni di lavoro ho visto molti archivi che si sono succeduti e molto spesso archivi che hanno contestato attribuzioni precedenti piuttosto che datazioni anche esse molto molto importanti a determinare un valore piuttosto che un altro quindi direi di massimo questo è il io ho portato un bademecum ma da qui non lo leggevo perciò non ho dato non ho dato l'ok al nostro assistente di andare avanti e quindi lascio la parola e rimango a disposizione qui siamo rimaste almeno noi tutte affascinate perché effettivamente abbiamo degli strumenti di tutela in più se accompagniamo magari un cliente anche in galleria a fare un acquisto e stessi voi avete delle responsabilità e anche parimenti delle forme di tutela vostre personali nella vendita diciamo di un bene visto e considerato anche tutto quello che ci ha fatto notare poi la professoressa anche nell'intervento precedente no le slide mi dispiace perché forse se le avessimo ingrandite le avremmo potute vedere anche noi un po' più miopi questo sì però se siete d'accordo le possiamo provare un po' felicemente perché tra l'altro poi rimane qualcosa di impresso e magari anche qui se possiamo tenerle a disposizione se qualcuno le volesse consultare io sono autorizzata e le mando ai colleghi quindi no queste peraltro questo vademecum per un acquisto sicuro vedo sì sì aspetti grazie sono questo vademecum che adesso potrete vedere in realtà la galleria sono anni che lo 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 stampa in appendice a tutti i cataloghi che edita perciò noi facciamo 5 6 7 monografie l'anno e ogni volta noi ripetiamo queste raccomandazioni perché credo che il compito dell'azienda della galleria d'arte oggi non sia solamente quello di proporre ma è anche quello di formare di educare noi facciamo dei convegni dedicati appunto alla formazione all'acquisto perché è un mondo meraviglioso affascinante spesso anche di grande soddisfazione non solo personale non ci scordiamo che i grandi le grandi monarchie si qualificavano a seconda delle grandi collezioni e quindi mutatis mutandis è sicuramente di grande soddisfazione umana ma purtroppo presenta tanti rischi se non si è presentati se non si è preparati ad un acquisto appunto sicuro e quindi il primo punto è quello della posizione obbligatoria al retro della tela o della carta della firma del titolare dell'azienda e del timbro o del cartiglio che si che si che si che si ha diciamo da parte della galleria e a questo proposito interessantissima era anche quella slide della Sharon Ecker con tutti i cartigli che voi esaminate a Tefaf noi pensate che sono 20 anni che facciamo le fotografie dei cartigli al retro delle tele sicuramente originali e ne teniamo un archivio perché siccome fanno appunto i cartigli falsi in qualche maniera cerchiamo di difenderci andiamo al passaggio successivo questo ovviamente se nel caso fosse firmata su carta va fatta la matita leggera senza andare a incidere troppo se no troviamo vicino alla firma dell'opera del maestro ci troviamo anche la firma del proprietario anzi il venditore andiamo avanti e questo è il documento di provenienza che è fondamentale per una compravendita attraverso il quale la galleria si assume una grande responsabilità voglio specificare una cosa colgo l'occasione esistono tre canali di vendita oggi in Italia uno è appunto la galleria d'arte uno sono le case d'asta e uno sono i art curator vengono chiamati oggi diciamo che dei privati che curano delle collezioni o propongono delle opere e io senza mezzi termini voglio dire che questi questi privati che hanno un appannaggio di almeno il 30% del mercato nero sono pericolosissimi perché in realtà non assumono mai alcuna responsabilità è molto raro e sicuramente non mettono in atto questa applicazione così rigorosa della compravendita a livello documentaristico e formale quindi io consiglio sempre di morire in mare grande perché sono ormai sono transazioni di livello tale che non si possono più concludere con una bazelletta e una pacca sulla spalla ci vogliono documenti documenti che stiamo andando ad esaminare e lo stesso dica sì per la casa d'aste perché la casa d'aste ricordiamoci che ha una responsabilità qui forse l'avvocato Montani mi può aiutare che è limitata nel tempo è limitata perché in realtà la casa d'aste è limitata nel tempo e quindi nel momento della consegna fisica del dipinto a maggior ragione deve affiancare una serie di documentazioni a comprova della provenienza e dell'autenticità e possiamo andare questo è il documento appunto su carta uoro su carta intestata dove appunto la galleria ricapitola l'immagine del documento storia attraverso l'esposizione e la bibliografia e si assume una responsabilità timbrando e firmando in ogni originale il documento andiamo avanti lasciare fattura questo è il documento fiscale ovviamente questo più che altro per sicurezza dell'acquirente perché avrà una prova incontestabile del pagamento effettuato a suo tempo andiamo avanti e qui entriamo nel discorso appunto dell'autentica dell'archivio di riferimento che deve essere sempre timbrata e firmata a retro dalla galleria venditrice poi le fotocopie delle pubblicazioni nella fattispecie del catalogo generale che è molto importante ovviamente ma in mancanza di esso le pubblicazioni quando esistessero chiaramente devono essere timbrate e firmate le fotocopie in originale molto importante anche nel documento Word che andiamo a compilare è la provenienza come diceva giustamente l'avvocato Montanite 6 che deve essere sempre citata proprio per una questione di provenienza serena e tranquilla possiamo andare avanti credo che siano le ultime la copertura assicurativa da parte di compagnia privata con stima accettata e che cosa significa che un perito della compagnia assicurativa entra nel deal nella compravendita e conferma i tre pilastri della stessa e quindi l'autografia lo stato di conservazione e il prezzo finale quando poi l'opera è veramente molto importante noi andiamo avanti siamo soliti contattare ma anche per nostra tutela il nucleo della parimane culturale per sapere se l'opera è presente o meno dei loro databasi cioè significa se ha o non ha pendenze civili o penali in questa mania più o meno si chiude il cerchio grazie grazie di nuovo grazie moltissimo e anche se abbiamo magari approfittato di un piccolo ripasso apprezzo molto le slide perché così chiunque può prendere diciamo bene nota e appuntarsi insomma a questo servono anche i nostri corsi di formazione immagino per segnare qualcosa che forse non avevamo ancora ben chiaro quindi io ringrazio il dottor Fabrizio Russo dovrei avere dunque il consigliere Marco Longari consigliere dell'associazione Antiquari Italiani ecco la vedo la sento buonasera benvenuto buongiorno allora lei passo la parola perché lei tratterà il tema dell'affidabilità le competenze dell'antiquario nella compravendita di un'opera d'arte ringrazio lei e l'associazione che è più o meno stata sempre presente in tutti i nostri incontri nelle varie persone dei suoi rappresentanti le passo la parola grazie per essere qui infatti grazie vi ringrazio molto per l'invito per poter essere presente a questa giornata importante vi porto i saluti del nostro presidente Bruno Botticelli e insomma è importante anche per noi dell'associazione essere presenti in queste giornate e fare un po' chiarezza su tutto il mondo che amiamo e che ci circonda seguo degli interventi molto importanti e molto interessanti tutti basati direi fino a questo punto sull'arte diciamo del novecento comunque la compravendita di arte moderna io vi porto in un mondo diverso vi porto nel mondo dell'arte antica per quella che è la mia esperienza in quanto sono un dealer appunto tra opere tra medioevo di nascimento quindi vi porto un pochino indietro ma insomma il nostro mondo comunque segue lo stesso ITER è evidente che il lavoro dell'antiquario è uno dei lavori più belli del mondo perché veniamo a contatto ogni giorno con scopriamo opere d'arte di cui ci innamoriamo e che ci fanno viaggiare con una passione irrefrenabile alla ricerca di un capolavoro o di un'opera che ci faccia battere il cuore certo poi il nostro lavoro ci porta anche a mettere in commercio le opere che troviamo e questo comporta tutta una serie di azioni ovviamente che devono tutelare noi che le abbiamo scoperte e anche i nostri futuri clienti e qui si toccano appunto i due punti del mio intervento cioè l'affidabilità e la competenza dell'antiquario infatti quando troviamo un'opera insomma la parte più bella del nostro lavoro dopo averla trovata è la ricerca di notizie intorno all'opera che troviamo che avvalorino e che confermino a livello storico-artistico la nostra scoperta il nostro impegno il nostro intuito vogliamo sapere tutto dell'opera perché ce ne siamo innamorati l'abbiamo magari scoperta in una in una collezione il sogno è poi ritrovare in una soffitta impolverata una visione un po' romantica oggi direi quasi miraggio ma oppure dalle mani da qualcuno che ignora il valore magari anche dal mercato perché siamo tutti legati a specifici settori quindi può capitare di fare anche qui qualche bella scoperta quindi il primo passaggio indubbiamente è indagare sulla provenienza dell'opera questo è già stato detto in precedenza da tutti direi assicurandosi che l'opera non presenti appunto problemi di commerciabilità primis per noi che la vogliamo tenere nelle nostre gallerie ed espolla le mostre per valorizzarla e poi anche nei confronti dei nostri potenziali clienti dato che ne siamo garanti quindi questa è la cosiddetta fase della due diligence di cui si è già parlato in tutti gli interventi non mi dilungo su questo punto visto che ne abbiamo parlato tutti però giusto per rimarcare il discorso esistono a partire da fototeche storicizzate che riportano notizie fondamentali sulla storia delle opere che mi viene in mente la fototeca a zero per quello che riguarda il nostro lavoro soprattutto nei dipinti voglio dire ci sono proprio notizie su tutte le opere i vari spostamenti le collezioni dall'antico quindi c'è tutto poi ovviamente come è stato detto all'inizio dall'avvocato Tensei c'è archivi consultabili come la Clos Register con più di 700.000 opere catalogate il nucleo il database il nucleo del patrimonio artistico quindi abbiamo veramente tantissime fonti a cui attingere per comprovare diciamo la leicità dell'opera di cui siamo interessati o che stiamo trattando si parlava prima l'avvocato Tensei mi sembra a proposito appunto dei punti riguardanti la compraventa delle opere d'arte uno dei tre punti doveva essere anche il vincolo si parlava di vincolo di interesse culturale ecco questo nel nostro mondo è un punto molto importante di cui non sempre noi siamo a conoscenza a noi capita spesso di trovare oggetti o opere in collezioni private dove veramente perché non si sa perché non è stato tramandato o comunque io voglio pensare così magari determinate informazioni non ci vengono fornite quindi noi siamo abbastanza sempre sotto il mirino da questo punto di vista e avremmo bisogno che i vecchi vincoli di interesse culturale vengessero per esempio messeri fossero facilmente fruibili perché questa qui indubbiamente è un'altra parte importante della due diligence di cui anche noi avremmo bisogno di essere un pochino più aiutati nel nostro lavoro una volta comprovata comunque la leicità e la libertà dell'opera per il commercio parte la fase di studio vero e proprio a volta a fornire un'attribuzione e diciamo anche l'autenticità Dio nell'arte nell'arte antica raramente le opere sono firmate e ci si basa spesso sullo stile o su confronti che opere che hanno magari una documentazione perché magari una commissione materiale di archivio che consente di accostare un'opera un'altra però insomma le firme tranne magari su dipinti più recenti sono difficili si va veramente a confronti stilistici qui l'ausilio degli studiosi e degli storici dell'arte per noi è molto importante ci sono vecchie attribuzioni che vanno aggiornate gli studi si sono evoluti qui oltre ai cataloghi e vecchie pubblicazioni che tiene conto delle passate collezioni se ci sono bisogna procedere con le competenze di chi evidentemente studia gli scultori i pittori di determinate epoche quindi loro per noi sono comunque un appoggio importante io sono approvo e confermo completamente quanto detto dalla professoressa è che riguardo al vetting di tefaf la mostra io ho partecipato per dieci anni indubbiamente lì non ti puoi un antiquario mercante non può presentarsi con un'opera che non sia dotata di un materiale di studio molto come dire molto preciso molto indagato in tutte le sue particolarità quindi lo studioso dell'arte secondo me a questi livelli quindi sto parlando del vetting di tefaf sto parlando della biennale di firenze che è la mostra più importante sicuramente a livello italiano cioè tutti questi critici questi studiosi questi storici dell'arte che girano intorno a questo mondo sto parlando soprattutto dell'antico sono figure assolutamente affidabili tant'è vero che sono accreditati appunto nei vetting di queste manifestazioni quindi secondo me nella mia esperienza è anche capitato di poter magari vincere qualche dubbio in queste mostre proprio in virtù di questi studi infatti Marco infatti volevo riconoscere il fatto che per esempio se da un lato il novecento come dicevamo prima è sicuramente più avvantaggiato come documentazioni dall'altro queste grandissime appuntamenti a cominciare anche dalla Biennale ai Corsini ha un vetting rigorosissimo sull'antico cosa che nessuna fiera contemporanea italiana è presente e questo è molto grave hai detto bene sono d'accordissimo con te i vetting sono molto importanti la collaborazione con gli studiosi è comunque fondamentale e si pone anche a garanzia del prodotto che poi dopo noi diciamo vendiamo o promuoviamo un'altra fase importante riguardo nelle competenze della promozione delle opere d'arte antica o comunque del nostro mondo è sicuramente anche la fase del restauro noi vogliamo riportare sempre le opere all'antico splendore o lo splendore originario nel mio caso per esempio mi capita spessissimo trattando soprattutto arti medievali di trovare delle sculture o degli oggetti che sono stati alterati negli anni forse perché c'è stato un cambio di gusto forse perché a un certo punto si voleva ridare colore a qualche cosa che l'aveva perduto per cui ci sono stati interventi che hanno volto a stravolgere un po' quella che era la vera anima dell'oggetto ecco noi tendiamo o comunque da veri antiquari quasi archeologi a ritornare all'origine a voler riportare le opere al loro antico splendore così come sono state concepite in seguito a questa fase qui e alla fase di studio facciamo anche delle pubblicazioni e le pubblicazioni ci danno visibilità e avvalorano ovviamente la nostra competenza nel settore e sono molto gradite ai nostri clienti tutti questi passaggi ovviamente consentono di presentare l'opera nelle migliori condizioni quindi un lavoro che unisce non solo una parte di studio di ricerca prima e poi di studio ma anche di valorizzazione del prodotto in modo che il nostro cliente si senta perfettamente tutelato si sente tranquillo perché noi abbiamo fatto tutte le fasi necessarie per fornire l'oggetto l'opera finita come si suol dire cioè corredata di tutto quello che si può e si deve sapere ovviamente poi per stabilire l'affidabilità di un antiquario esistono anche altri aspetti e qui però si entra in un discorso di deontologia professionale cioè il rispetto delle regole che siamo richiesti a seguire il modo di operare all'interno della categoria con i clienti il rispetto del lavoro altrui il nostro mondo che è fatto di tantissime sfaccettature il buon rapporto con i colleghi la visibilità e la trasparenza del nostro operato anche e soprattutto il nostro modo di operare nel rispetto delle norme che regolano il nostro lavoro che ha anche una parte burocratica importante e soprattutto ci impone dei passaggi fondamentali e obbligatori per il commercio di ore proprio la nostra attività è tutta chiaramente documentata in fase di acquisto abbiamo l'obbligo di richiedere i documenti dei soggetti da cui compriamo che poi conserviamo e trascriviamo in appositi registri codici fiscali carte di identità indirizzi quindi tutto perfettamente alla luce e che sono regolarmente il soggetto ai controlli delle autorità in fase di vendita ancora registriamo i nostri clienti con i loro documenti e nel caso di transazioni a di sopra di un certo importo 10.000 euro tanto per non dirlo o per dirlo seguiamo anche la normativa dell'antiriciclaggio che la nostra categoria è chiamata a rispettare dal 2019 e che però ormai è diciamo rassi comune per tutti noi tutti i settori professionisti ecco tutti questi sono un po' i requisiti e i modi di comportarsi e procedere è fondamentale per entrare a far parte qui parla della nostra associazione della nostra associazione l'associazione del cuore d'Italia che è nata nel 1959 a Firenze con un atto che voleva essere di appoggio e di condivisione agli ideali della mostra al mercato internazionale dell'antiquariato di Firenze cui spetta il diritto di essere la prima manifestazione di arte antica nel mondo la più antica di tutte oggi l'associazione è riconosciuta apprezzata e secondo me anche un po' invidiata per come funziona in tutto il mondo e accomuna più di un centinaio di gallerie e galleristi accomunati non solo dalla qualità delle opere che spongono ma anche dell'affidibilità del loro modo di lavorare resta infatti uno dei principi fondamentali dell'associazione di noi associati la trasparenza del commercio delle opere d'arte un atteggiamento fermo e risoluto verso la difesa dell'arte antica e la valorizzazione del patrimonio ecco grazie e allora anche per lei il nostro applauso è un ringraziamento come sempre perché appunto diciamo il fine è quello che poi ci interessa cioè che tutti cerchiamo di porre in essere una tutela per chi acquista ma anche nel vostro caso per chi vende il più possibile insomma garantita da serietà e professionalità questa è la cosa insomma che sicuramente emerge quando abbiamo a disposizione relatori che si occupano appunto di essere dall'altro lato in qualche maniera dal lato vendita o garanzia appunto di provenienza quindi io la ringrazio molto e passo velocemente la parola alla dottoressa Eleonora Coloretti buon pomeriggio la sento benissimo storica dell'arte restauratrice qualificata dunque lei affronta il tema del certificato di autenticità l'expertise e la perizia oggi ne abbiamo sentito parlare quindi a lei per un approfondimento grazie e benvenuta grazie grazie innanzitutto per questo graditissimo invito dove vedo già facce conosciute che stimo non so se vedevate il mio entusiasmo durante l'intervento anche della professoressa Ecker dove io mi sono ritrovata assolutamente come senza saperlo come metodologia di lavoro quindi le anticipo che la contatterò assolutamente se le farà piacere perché vorrei scambiare con lei insomma molte opinioni perché io nasco come giustamente avete detto come restauratrice di beni culturali sono accreditata dal ministero di beni culturali italiano chiaramente ma poi ho proseguito diciamo così la mia carriera professionale come esperto d'arte ma più che altro come perito e come consulente tecnico d'ufficio del tribunale di massa quindi della mia provincia con il mio intervento faccio un passo indietro e mi ricollego proprio a quello della professoressa Ecker dove io mi sono ritrovata pienamente a parte in tutti anche a quello del dottor Russo chiaramente ma soprattutto per il discorso della metodologia della metodologia perché faccio un passo indietro visto che sono stata chiamata qui proprio per fare chiarezza su quella che è la differenza perché c'è una differenza tra un expertise una perizia che sia civile che sia penale c'è molta 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 differenza e come sostengo sempre io ho trovato proprio un baluardo nella professoressa serve servono moltissimi tasselli da mettere insieme per definirsi un esperto cioè un esperto non si può definire soltanto in base alla propria sensibilità alla propria conoscenza ma deve avere dei dati oggettivi perché per quanto noi possiamo farci prendere da questo mondo che ritorno nel discorso di Fabrizio Russo è bellissimo e fortunatamente pieno di persone che lavorano molto bene e oggi abbiamo testimonianza anche della sinergia che può nascere se le persone che fanno proprio la differenza lavorano con certi criteri e con certe metodologie io nasco come un tecnico perché nasco come un restauratore per cui il mio approccio non può prescindere dal dato oggettivo che secondo me è fondamentale per cui mi ritrovo moltissimo nella triangolazione della professoressa perché solo così noi possiamo avere una quantità di dati che vanno a intersecarsi e a darci lo spessore del quale necessitiamo per andare a fare un'expertise o una perizia e parlo del mio caso personale dove spesso mi trovo quindi la differenza sostanziale non solo la fa la metodologia ma la fanno anche le persone perché le persone sono quelle che lavorano in un certo modo con un certo background con una certa cultura con modalità chiaramente differenti la diversità delle modalità secondo me fa la differenza e fa la differenza soprattutto nell'expertise e ancora di più nella perizia tornando facendo come dicevo un rapido passo indietro e cercherò di essere breve perché non voglio togliere tempo a un altro intervento a cui tengo molto che parlerà del certificato appunto di autenticità io invece vado a ritroso e parto dall'expertise per dire che l'expertise come giustamente diceva la professoressa va condotto in un certo modo va condotto incrociando tutta una serie di dati che partono sì dalla sensibilità diciamo così dalla conoscenza dell'esperto ma poi vanno a inserire tutta un'altra serie di dati che sono storiografici che sono bibliografici che sono di archivio nulla nulla va lasciato va lasciato intentato come dico io ogni indizio ogni cosa che viene data da un'opera d'arte che sia sul recto o che sia sul verso visto che parlavamo di etichette cifre va portata avanti e va va indagata ma soprattutto a mio avviso il compito dell'esperto perito a me piace piace chiamarmi perito più che esperto e poi dirò perché è quello di verificare come diceva giustamente la professoressa verificare il dato perché tutti i dati dei quali noi veniamo a conoscenza non è detto che siano corretti non è detto che siano verificati anzi anzi la maggior parte delle volte non lo sono e la maggior parte delle volte è proprio il perito che scombina le carte in tavola e fa uscire fuori delle altre verità come è successo spesso anche a me citava la professoressa il caso dei falsi modigliani che è una storia alla quale io tengo molto perché sono stata ora non sto qui a raccontare ma coinvolta per alcune situazioni appunto di studio e lì si vede dove c'è la difficoltà dove c'è veramente la chiamata in causa di una responsabilità come dico io che cambia la visione delle cose perché avere i dati oggettivi che servono per poter controbattere in una situazione di perizia ufficiale è quello che fa la differenza tra l'esperto conoscitore diciamo così e l'esperto che ha del materiale da portare a dimostrazione quindi l'espertise è veramente un insieme di moltissimi fattori che vanno a intersecarsi dove per quanto mi riguarda oltre la conoscenza la sensibilità la conoscenza della storia dell'arte la settorialità perché chiaramente non possiamo essere esperti di tutto ma ci vuole una settorialità non so adesso comunque ci vuole una settorialità per ogni chiaramente periodo o comunque diversità di materiali per esempio e poi ci vuole assolutamente un approccio scientifico dal quale io non prescindo mai perché l'analisi scientifica il dato scientifico va a qualiuvare quelle che sono le mie impressioni quelle che possono essere le mie sensazioni del momento quelli che possono essere i dati magari storiografici o bibliografici che io ho reperito però giustamente come faceva l'esempio Calzante e la professoressa se un fiore o un pigmento non può essere databile in un determinato periodo io sono obbligato ad usare l'analisi scientifica se voglio fare un lavoro corretto e quindi torno al discorso precedente la correttezza dell'operatore che è fondamentale è un mondo molto difficile questo il mondo dell'arte perché è meraviglioso ma è un mondo dove gravitano molte molte situazioni diverse ci sono tanti interessi dietro per cui la differenza è proprio la modalità di approccio a questo mondo che secondo me deve essere più oggettiva e più anche se vogliamo super partes possibile perché l'esperto inteso come esperto d'arte passatemi il termine e faccio proprio questa distinzione esperto e perito spesso si fa prendere troppo dalla propria diciamo così o conoscenza o romanticismo o amore per il periodo perché spesso c'è come abbiamo visto in questo ultimo periodo soprattutto di molti casi che ci sono stati presentati la volontà di voler scoprire per forza di cose una novità un capolavoro e quindi spesso le ricerche vengono anche involontariamente fuorviate o comunque portate verso determinate strade che spesso sono del tutto sbagliate quindi l'expertise è effettivamente un documento è un documento diciamo diciamo ufficiale di accompagnamento all'opera ma non è certamente una perizia la perizia può essere fatta soltanto da un perito e qui la legge un pochino ci viene in aiuto anche se ancora dobbiamo lavorare in questo senso soprattutto per la nostra categoria proprio per la tutela della nostra figura che sottolineo non è semplicemente l'esperto il perito è colui che è incaricato che è iscritto ad un ruolo quindi a un ruolo periti di una camera di commercio che comunque fa una serie di verifiche delle competenze e quindi questo è un passaggio in più rispetto a un esperto che non ha giustamente come dicevano i miei colleghi prima non ha nessun tipo di dovere di dover diciamo così manifestare o conclamare una una bravura diciamo o una conoscenza invece il perito comunque passa attraverso un baglio che può essere di un curriculum o comunque di un pregresso chiaramente lavorativo di almeno tre anni o in alcuni casi anche di un esame per quindi la perizia è un passo in più rispetto a un'espertise anche perché come dicevamo prima non so chi l'aveva già affrontato questo tema da una valutazione economica dell'opera quindi presuppone già anche una conoscenza ulteriore che è quella di un andamento di mercato per esempio che è quella di cercare di capire chiaramente come vanno gli andamenti anche per non andare fuori mercato e per non fare delle perizie che sono o completamente non corrispondenti al vero o diciamo spesso a volte ridicole come è capitato quindi è comunque un'assunzione di responsabilità in più diciamo che è una scala che va appunto a salire fino ad arrivare al CTU del tribunale quindi un consulente tecnico che dopo tre anni di iscrizione appunto alla Camera di Commercio è chiamato a potersi iscrivere ad un tribunale e questo fa chiaramente ancora un'ulteriore un'ulteriore diciamo diversità perché perché il consulente tecnico e cito proprio per far capire un attimo la differenza tra proprio la funzione di responsabilità è secondo l'articolo 61 del codice della procedura civile è necessario al giudice per assistere il compimento di singoli atti o per tutto il processo quindi di particolare competenza tecnica quindi il CTU è chiamato da un giudice per dare un'opinione o meglio per stendere spesso e volentieri una perizia quindi la diversità secondo me tra esperto e un CTU del tribunale è quella dell'assunzione di responsabilità alla fine perché comunque davanti a una situazione giuridica siamo chiamati a assumerci le nostre responsabilità per cui è chiaro che anche nel momento in cui tu sei chiamato a doverti assumere una responsabilità tutto il lavoro che fai pregresso di studio di ricerca di verifica è chiaro che ha un'altra valenza perché comunque presuppone il fatto che possa sempre essere innanzitutto portato in tribunale poi possa essere comunque messo in diciamo così a giudizio perché comunque è un atto legale quindi la perizia spesso viene utilizzata come atto è utilizzata in procedimenti come atto legale quindi in questo in questo caso è proprio qui la differenza perché ho voluto sottolineare questo perché la figura del perito è un passo in più rispetto a quella dell'esperto e fortunatamente legalmente diciamo che c'è questa differenza di tutela per cui il consiglio che io spesso do anche ai clienti che si affacciano privati anche soprattutto che si affacciano a uno studio quindi vogliono diciamo così far valutare un'opera d'arte o la vogliono comunque valutare di affidarsi comunque a persone che possano in qualsiasi sede prendersi una responsabilità perché come diceva giustamente la professoressa se sappiamo di quante diatribe ci sono tra esperti nessuno può negare ad un'altra persona di dare un parere però poi questo parere va portato avanti e va saputo ottenere cioè bisogna avere poi gli strumenti e i mezzi per poterlo validare e questo secondo me fa la differenza tra quello che è un esperto e quello che è un perito quindi dobbiamo comunque vedere che questo mondo si muove in questo senso è un mondo particolare è un mondo dove ancora c'è parecchia confusione ma ci possono essere come dicevo prima delle sinergie importanti e soprattutto ci possono essere delle figure che lavorano per il miglioramento anche delle metodologie e della sicurezza di queste metodologie quindi è chiaro che io parto come dicevo prima da una visione molto tecnica che mi accompagna chiaramente in tutto quello che faccio e le visioni aleatorie sono sempre per me poco compatibili con il mondo dell'arte anche se è un mondo bellissimo e se vogliamo effimero ma non dimentichiamoci che fa parte anche questo della compravendita cioè è un mondo molto calato nella realtà soprattutto adesso perché le opere d'arte sono oggetti vuoi o non vuoi che vengono comprati vengono venduti ed il rischio è veramente molto alto di incorrere in grosse problematiche anche in buona fede e io parlo proprio da parte appunto del cliente che si affaccia a comprare un'opera o a farla studiare è bene importante affidarsi a delle persone competenti che lavorano in modo serio e soprattutto che possano offrire un parterre di persone come appunto oggi ho avuto la fortuna di avere tutte insieme che possano garantire dall'inizio alla fine una serietà e una veridicità soprattutto dell'acquisto che si va a compiere in ultimo prima di lasciare poi la parola all'avvocato Ciabattini che tratterà questo argomento meglio ancora meglio di me il certificato di autenticità bene il certificato di autenticità ancora ci porta sotto gli occhi un'ulteriore differenza perché il certificato di autenticità soprattutto per le opere soprattutto per le opere d'arte appunto del novecento deve essere rilasciato dall'ente certificatore quindi è questa la differenza c'è un ente certificatore adibito a rilasciare un certificato quindi non si può non passare da quella strada poi che ci siano problematiche legate anche ai comitati scientifici non entro in merito all'interno di molte fondazioni all'interno di molti archivi siamo d'accordo sul fatto che anche loro dovrebbero portare avanti un discorso di visto che la scienza va avanti e le tecniche vanno avanti di diciamo aggiornamento continuo e di tornare a volte spesso sui loro passi come diceva la professoressa giustamente questo è un altro discorso ma comunque non si può non passare da lì quindi chiunque l'esperto che dice io rilascio un certificato beh già da qui bisogna allontanarsi perché un esperto non può assolutamente rilasciare un certificato di autenticità ok non può dare e tantomeno dare una archiviazione di un'opera ancora meno quindi far sì che un'opera venga archiviata assolutamente può aiutare chiaramente nel reperimento di tutta la documentazione di tutta di tutte le foto di tutti diciamo i documenti che vanno a corredo e allo studio di quello che è l'opera d'arte ma non può chiaramente rilasciare nessun tipo di certificato quindi bisogna fare chiarezza su queste figure e adesso io lascerei la parola appunto all'avvocato Ciabattini che so che tratterà molto bene questo questo argomento sul certificato e le fondazioni e gli archivi storici e allora noi la ringraziamo molto per lei anche è il nostro apprezzamento chiarissima la figura del perito e il valore aggiunto della perizia se non ho malcapito in relazione anche a una forma di prevenzione e un eventuale giudizio ovomai sfortunatamente dovesse esserci la ringrazio tanto per essere stata con noi e come anticipato è un gran piacere per me oggi Caterina relaziona nell'ambito proprio di questa di questo corso che diciamo veramente è frutto di tanto impegno e anche un po' di fatica nell'organizzazione grazie Caterina a te la parola allora eccoti qui allora intanto un buon pomeriggio a tutti se qui c'è qualcuno che deve ringraziare quella sono io perché devo ringraziare voi e consiglio nelle persone tua consigliere Angelica Dessi e nella consigliera Carla Canale proprio perché avete creduto in questo progetto un doveroso grazie va a tutti i relatori che sono intervenuti fino adesso che interverranno ricordo che sia l'avvocato Montani Tesei che il dottor Russo intervenranno anche il prossimo convegno del 27 sempre a che fare con la vendita dell'opera d'arte ma soprattutto per le particolari contratualistiche nel mondo dell'arte voglio ringraziare tutti i colleghi i professori i consiglieri i giudici i professionisti tutti gli amici e anche tutti i dirigenti del MIC che si sono offerti perché con la loro adesione hanno fatto sì che il livello di questo corso fosse alto e abbiamo avuto un riscontro quindi anche grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando un grazie anche doveroso al FAI che ha dato il suo patrocinio da ultimo da ultimo ma non per ultimo un grazie doveroso alla collega Elisabetta Pace perché anche lei ha fatto un grandissimo lavoro e soprattutto anche un grandissimo grazie al professor Francesco Emanuele Salamone perché con i suoi consigli soprattutto nell'ambito penale ha fatto sì di dare veramente parecchi spunti notevoli infatti io credo che andremo avanti oltre questo corso allora partiamo subito a evidenziare l'ambito di questo modulo il susseguirsi dei vari interventi ha ben chiarito come ogni opera o bene artistico possieda oltre al suo intrisseco valore estetico una sua specifica valenza economica considerato che in tutti i contratti aventi ad oggetto opere d'arte l'autore gode del diritto di seguito quello di percepire cioè una percentuale sul prezzo di ogni vendita consecutiva alla prima delle proprie opere in quanto diritto morale della personalità con carattere inalienabile indisponibile irrinunciabile imprescrittibile per l'intera vita dell'autore per 70 anni dopo la sua morte si è altresì potuto constatare l'affidabilità e la competenza professionale del venditore antiquario prima gallerista anche dopo che garantiscono un corretto passaggio di proprietà del bene artistico ancora abbiamo approfondito quanto sia importante attribuire un'identità all'opera grazie al contributo dello storico dell'arte che leggendo l'evoluzione dei vari linguaggi artistici è in grado di spiegarci nel ritmo secondo un metodo basato su criteri oggettivi quindi in grado di rafforzare le sue valutazioni abbiamo poi individuato come appena detto dalla dottoressa Coloretti i corretti strumenti di valutazione dell'opera d'arte riferimento essenziale del mercato dell'arte in quanto capaci di cambiare il valore dell'opera mediante perizia expertise e autentiche ovvero attribuendolo a una precisa paternità dando così un valore economico la precedente normativa la legge numero 1062 del 1971 la cosiddetta legge Pieraccini prevedevano i contratti di compravendita di opere d'arte che il venditore dovesse obbligatoriamente consegnare al compratore un attestato di autenticità consistente in una coppia fotografica dell'opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l'indicazione della provenienza che era lui tenuto a sottoscrivere successivamente il codice dei beni culturali ovviamente il decreto legislativo 42 del 2004 all'articolo 64 ha invece esteso l'obbligo della consegna dell'attestato di autenticità e della garanzia di un'autenticità dell'opera venduta e dobbiamo ricordare che condizione della verifica della validità ex articolo 1229 del codice civile a chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico di esposizioni a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura di scultura di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico-archeologico e a chiunque comunque abitualmente vende le opere agli oggetti medesimi soggetti tutti ugualmente tenuti a consegnare all'acquirente la documentazione che attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime ovvero in mancanza rilasciare con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza dell'opera venduta il mancato rilascio dell'autentica da parte del venditore costituisce secondo costante giurisprudenza un addempimento che può condurre alla risoluzione del contratto di vendita dell'opera posto che il difetto di autenticazione ne prescinde sia l'ammissione sul mercato che una corretta valutazione le modalità di attribuzione e di autenticazione di opera sono diverse e varia una seconda che si tratti di un'opera di autore vivente o defunto nel primo caso è sufficiente come abbiamo poc'anzi sentito richiedere l'autentica alla galleria se l'acquisto è stato fatto su tramite oppure direttamente l'artista che se conto quando disposto dall'articolo 20 della legge 63 6-3-3 del 1941 di cui ha magistralmente parlato la nostra collega ne riconoscerà la paternità facendone acquistare all'opera un vero valore dell'autenticità nel caso cui invece si tratti di autore defunto deve osservarsi la disposizione dell'articolo 23 della legge sul diritto d'autore secondo cui alla morte dell'artista il diritto morale di attribuzione della paternità dell'opera è esercitabile o direttamente dai suoi eredi in particolare dal coniuge supersite e dai figli a titolo di acquisto iure proprio o da archivi fondazioni comitati di esperti o associazioni che siano mandatari degli eredi medesimi è giusto quindi interrogarsi se tale diritto di autentica spetti in esclusiva ai soli legittimari ed eredi del defunto artista con l'ovvia conseguenza di trasformare tali categorie di soggetti o pelegis in esperti e certificatori di cose d'arte oppure se tale facoltà di autentica rientri in un più ampio diritto alla libera manifestazione del pensiero così per rendere impossibile a chiunque compreso chi non è un vero e proprio esperto il manifestare la propria opinione sia un'opera inficiando magari l'attestazione di autenticità dei soggetti legittimati assumono quindi una funzione determinante per la certezza della paternità le fondazioni e gli archivi d'artista è opportuno qui ricordare che in tema di diritto di archiviazione dell'opera d'arte nel nostro ordinamento manca un riferimento legislativo tipico su tale punto rendendo così necessario ricorrere a quanto dettato dall'articolo 64 del codice dei beni culturali e dalla nostra costituzione all'articolo 9 secondo cui spetta la repubblica la tutela del patrimonio storico artistico della nazione la legislazione ordinaria a sua volta omette di dettare una disciplina completa su tale tutela limitandosi a curarne soltanto alcuni aspetti neppure la legge sul diritto d'autore contiene norme specifiche in tal senso lasciando quindi come unico possibile riferimento normativo soltanto quello rinvenuto nell'articolo 64 del codice dei beni culturali gli operatori del mercato dell'arte tendono ad affidarsi prima di effettuare un negozio di compravendita a pareri di archivi e fondazioni per le opere d'arte realizzate dall'ottocento ad oggi visto che prima del diciannovesimo secolo non esistevano le fondazioni piuttosto che giovarsi dei pareri degli studiosi indipendenti si spiega quindi come il ruolo svolto dalle fondazioni e dagli archivi nell'autentica delle opere d'arte abbia assunto ormai un'importanza determinante conferendo all'archivio d'artista una rilevanza prevalente sembra opportuno chiarire brevemente in cosa consiste la differenza tra fondazioni e archivi la fondazione è un'organizzazione stabile dotata di personalità giuridica privata scusate di una personalità giuridica privata regolata dal codice civile ha un proprio patrimonio idoneo e sufficiente a mantenere l'ente in vita nel quale vengono fatte confluire le opere d'arte del fondatore allo scopo lecito e incomiabile di realizzare un interesse collettivo esse possono essere costituite con atto pubblico intervivos oppure con disposizione testamentaria di chi intenda costituirla dopo la propria morte con i fondi appositamente destinati una volta riscontrate la leicità dello scopo e la sussistenza del patrimonio alla fondazione viene riconosciuta la personalità giuridica e la scrivibilità nel registro la fondazione che svolge un'attività di verifica dell'autenticità delle opere può avere molteplici funzioni tra loro diversificati quelle collegate ad un singolo medium artistico come la fotografia vedi le fondazioni forma per fotografia di Milano e fondazione fotografia Modena oppure dedicata ad un singolo artistica o un singolo artista come quello di Pomodoro di Manzù di Piero Manzoni e De Chirico o ancora fondazioni che intendono valorizzare collezioni private oppure promuovere giovani artisti vedi la fondazione Giuliani a Roma per l'arte contemporanea si ricorda anche come l'istituto della fondazione venga sempre più spesso impiegato anche dai grandi imprenditori legati al mondo dell'arte ovvero da poli museali come il Museo Maxi di Roma gestito appunto dall'omonima fondazione gli archivi hanno attualmente una posizione speciale nel mercato dell'arte dato l'incremento esponenziale della circolazione di opere contemporanee false per dare la definizione di archivio di artista riporto a quella fornita dall'associazione italiana archivi d'artista AIT Art che così recita l'archivio di artista è un ente culturale dinamico costantemente impegnato nell'aggiornamento nell'organizzazione di documentazione sulla figura e sull'opera di un artista con il duplice scopo di promuovere la conoscenza e di catalogarne la produzione autentica nella massima trasparenza di metodo e di rapporti la storica e critica letteraria a lei da Asman definisce l'archivio come luogo della collezione e della conservazione di ciò che è passato e che non deve andare perduto archivio è dunque l'ente che con costante impegno di aggiornamento e organizzazione raccoglie la più completa documentazione sulla figura e sull'opera di un artista con un duplice scopo incentivare gli studi e favorire la conoscenza della figura e dell'opera di un artista promuovendo ricerche e iniziative direttamente o in collaborazione con altri organismi pubblici e privati catalogarne una produzione autentica nella massima trasparenza di metodo e rapporti e prassi che nell'archivio partecipi anche il proprietario delle opere d'arte e o il titolare dei diritti morali d'autore sulle opere l'artista se ancora invita oppure i suoi eredi rendendo così possibile la gestione e disposizione delle opere da parte dell'archivio unici legittimati a tutelare la paternità e integrità dell'opera data gli archivi assumono così il ruolo di supervisione generale ricordo la particolarità dell'archivio Manzoni che diversamente dalle pratiche di autenticazione normalmente attuate da altri archivi italiani si astiene da rilasciare un documento ma provvede ad un'autentica archiviazione delle informazioni sulla documentazione delle opere d'artista assume quindi massimo rilievo il catalogo ragionato espressione con cui si intende la pubblicazione che secondo una metodologia scientificamente organizzata raccoglie tutta la documentazione contenuta nell'archivo delle opere della produzione di un artista nonché le eventuali dichiarazioni di autenticità e dunque la raccolta annotata che documenta nel modo più completo possibile la produzione di un determinato artista il catalogo è solitamente curato anche dalla fondazione che ne gestisce la memoria della produzione artistica di un determinato autore inserire quindi un'opera nel catalogo ne permette da un lato il riconoscimento autentico e dall'altro le conferisce un valore sul mercato si ricorda che attualmente esistono molti cataloghi pubblicati dallo stesso artista in vita pensiamo al loro al lavoro compiuto dalla fondazione pomodoro che ha pubblicato il catalogo delle opere d'artista direttamente online o al catalogo pubblicato da Gerard Richter che hanno così permesso alle relative opere di artista di acquistare maggiore certezza e dunque valore è allora vantaggioso incentivare la creazione di archivi e curarne la pubblicazione nonché l'aggiornamento anche online così da tenere censita la produzione autentica di un artista bisognerebbe anche ricordare in ambito internazionale l'ICRA l'International Catalogue Resoné Association allora Ipacta recentemente anche il MICTA ha dato un prezioso contributo nell'ambito dell'arte contemporanea soprattutto per quella effimera come già accennato prima adottando un certificato di autenticità Ipacta ovvero i protocolli per l'autenticità e la cura e la tutela dell'arte supportano l'acquisizione di opere d'arte di artista vivente da parte di musei fondazioni e istituzioni statali essi costituiscono uno strumento utile per la conoscenza dell'opera d'arte e per tutelarne l'identità la corretta conservazione e permanenza del tempo grazie alle indicazioni di parametri di identità e autenticità della stessa opera d'arte Ipacta potrebbero a loro assumere funzione di valido supporto all'articolo 64 del codice dei beni culturali divenendo un documento integrante del contratto di acquisto dell'opera Allora alla ricerca di una definizione del certificato di autenticità rilasciato dagli archivi in grado di superare le grandi incertezze del dibattito accesosi in dottrina Dottrina Donati Frezza Calabi Morabito Gatti Untani Tesei e giurisprudenza maggioritaria ritengono che il parere di autenticità rilasciata dagli archivi sia un'expertise che nulla vale più di un'opinione quale srinsecazione della libertà di pensiero ex articolo 21 della Costituzione e non ha ne deve avere alcuna autorevolezza privilegiata sia nel processo civile che in quello penale l'archivio nella sua qualità di portatore di un proprio interesse sul mercato dell'arte nel caso in cui detenga una quota rilevante di opera di un stesso artista può dunque accrescere il valore di esse attuando mirati i piani strategici ma potrebbe pertanto essere tacciato di comportamenti anticoncorrenziali la formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce infatti espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato come esperto del mercato fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un'opera d'arte se erroneamente attribuita a soggetti diversi dall'autore o invece a disconoscere la provenienza da questi contrasti discendono le molte controverse nate tra collezionisti e archivi sia in caso di diniego dell'archivio di rilasciare la certificazione di autenticità di un'opera considerata invece autentica dal collezionista sia in caso di diniego dell'inclusione di essa nel catalogo ragionato anche quando l'autenticità dell'opera sia stata giudizionalmente riconosciuta se fino ad ora non risultava disponibile configurare un obbligo della fondazione o dell'archivio all'inclusione di una determinata opera nel proprio catalogo attualmente invece la dichiarazione di autenticità dell'opera accertata giudizionalmente con sentenza passata in giudicato costituisce presupposto sufficiente per l'inclusione dell'opera nell'archivio pur se con la precisazione che l'autenticità è stata dichiarata dal tribunale si noti che tagli accertamento giudiziale potrebbe non incidere affatto sul mercato dell'arte rischiando di svalutare l'opera con inevitabile conseguenza delle percussioni negative sul piano culturale per la figura dell'artista ho selezionato alcuni casi allora il primo ha a che fare con il contrasto tra giudizio della magistratura e la valutazione dell'esperto vedi la sentenza Calder del 2010 New York un gruppo di mercanti aveva citato in giudizio il venditore di un'opera chiamata Rio Nero dopo che uno dei più noti esperti di Alexander Calder Gold l'aveva reputata non autentica sia in primo grado che in sede di appello l'opera fu al contrario ritenuta autentica dispetto di quanto ritenuto dall'esperto di Calder tale contrasto comportò che l'opera sebbene dichiarata autentica giudizialmente non risultasse comunque attrente per il mercato al punto che la corte constata l'esclusione della scultura dal catalogo ragionato di Gold e ha considerato quindi l'opera essenzialmente invendibile la conclusione è quindi che l'attività di valutazione al fine dell'inserimento di un'opera nel catalogo dell'autore o nel registro delle opere autentiche vale come espressione del diritto di libera opinione inefficace a costituire uno specifico obbligo del curatore a pubblicarla nel catalogo delle opere autentiche un altro punto potrebbe essere il disconoscimento dell'autentica d'opera dello stesso esperto esaminiamo invece adesso il caso in cui un giudice disconosca l'autenticità di un'opera respingendo la pretesa del proprietario di riconfermarla l'esperto d'arte che ha autenticato un'opera nel 1986 ma nel 2005 si è rifiutato di confermare il parere precedentemente reso in questo caso il Tribunale di Milano ha sostenuto che acquistando un'opera d'arte non si può mai essere certi della sua durevole autenticità perché l'esperto che l'ha dichiarata tale potrebbe aver cambiato idea per effetto di ricerche studi ulteriori o diversi sviluppi nell'analisi della ricerca ad esempio con l'uso delle nuove tecnologie vedi il Tribunale di Milano la sentenza numero 14193 del 2008 ancora la responsabilità dell'esperto possiamo pensare al caso della Fondazione Rotella sentenza numero 8627 del 2012 del Tribunale di Milano in questo caso il Tribunale di Milano ha deciso che anche se l'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di espressione un esperto deve dare il suo parere tecnico su un'opera d'arte secondo l'ordinaria diligenza soltanto se l'opinione risulta sbagliata a causa di dolo o colpa l'esperto deve essere considerato responsabile per errore compiuto con le conseguenze derivatine ancora l'esclusione dell'autenticità pronunciata da una sentenza la Corte di Cassazione e qui abbiamo la sentenza 28821 del 2017 ha escluso l'autenticità di un arazzo di Alighiero Boetti affermando tassativamente che il mero accertamento giudiziale non è valido a conferire l'autenticità ad un'opera ancora in esistenza in esistenza di un obbligo degli eredi a riconoscere l'autenticità di un'opera con sentenza numero 14 060 del 2018 il Tribunale di Roma e parliamo del caso Seitrombli ha affrontato il delicato tema dell'accertamento dell'autenticità delle opere di un artista defunto analizzando l'esistenza di un vero e proprio obbligo in capo alla fondazione di riferimento che aveva pubblicato il catalogo obbligo disconosciuto con il rigetto della pretesa del privato interessato all'inserimento dell'opera in detto catalogo e che la fondazione si era rifiutata di soddisfare con conseguente rifiuto della casa d'aste di procedere alla vendita nel motivare tale posizione i giudici richiamando una precedente decisione che è una sentenza del Tribunale di Roma del 2016 in cui la formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto costituzionalmente garantito sempre l'articolo 21 della Costituzione dalla libera pressione del pensiero espressione del pensiero in sostanza la facoltà di autenticare l'opera non spetta secondo il Tribunale in via esclusiva agli eredi dell'artista defunto o agli enti da loro costituiti e di conseguenza neppure gli altri soggetti legittimati sono obbligati a rilasciare pareri sull'autenticità delle opere ancora e giungo la fine la valutazione dell'autenticità di un'opera esprime una semplice opinione come tale mutevole dall'esperto della fondazione o degli archivi con la più recente sentenza la numero 7148 del 3 novembre 2021 la Corte d'Appello di Milano riformando integralmente la pronuncia del Tribunale con la sentenza 6004 del 20 ottobre 2020 ha stabilito che la sola testimonianza della fondazione o dell'archivio nei processi avventi come presupposto la falsità o contraffazione di un'opera d'arte non è sufficiente a giustificare una condanna o la confisca dell'opera secondo la Corte infatti il parere di un esperto indipendentemente da quanto autorevole sia può sempre essere messo in discussione da altro esperto consulente occorre infatti tener conto della peculiarità dell'oggetto d'arte come oggetto di scambio peculiarità che dipende principalmente dall'incertezza intrinseca della sua esatta identità e provenienza che spesso dipendono da una valutazione quella dell'esperto che per quanto diligentemente resa altro non è se non un giudizio un'opinione suscettibile come tale di mutamento ancora l'accertamento dell'autenticità tutela anche il diritto collettivo all'informazione artistica come la difesa della proprietà del privato su posizione antitetica appare invece la sentenza numero 2262 del 2022 sempre della Corte di Appello di Milano destinata a influire sostanzialmente sulla futura giurisprudenza di merito e di legittimità disconoscendo pronunce antecedenti con il riconoscimento di un obbligo all'inserimento nel catalogo dell'archivio dell'opera la cui autenticità si è stata accertata giudizialmente l'interesse della collettività ad essere informata dell'esistenza di tutte le opere di un artista presenti sul mercato esige infatti una tutela così come la esige il diritto del privato ad agire giudizialmente al fine di accertare l'autenticità dell'opera nonostante il parere negativo della fondazione archivio come garantito dagli articoli 24 e 42 della Costituzione la Corte è infatti così statuito l'opera d'arte è anche un bene oggetto di scambio con specifiche peculiarità al valore estetico si accompagna una precisa valenza economica che dipende dalla sua accertata autenticità e che costituisce per consolidata giurisprudenza di legittimità elemento essenziale nei contratti di compravendita del bene tra privati l'autenticità dell'opera d'arte fornisce al bene una qualificazione ontologicamente diversa con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà l'incertezza scaturita dal rifiuto della fondazione di autenticare l'opera d'arte ha reso quindi concreto l'interesse a promuovere l'azione di accertamento a questo punto sembra necessario chiedersi quale valore concreto possa riconoscersi ad una pronuncia giudiziale di autenticità dell'opera d'arte potrebbe individuarsi forse una cosiddetta utilità aggiuntiva nella sentenza di accertamento ottenuta dal proprietario dell'opera tenendo però presente che detta sentenza come tale tra le parti del giudizio lasciando libero chiunque di esprimere un'opinione diversa da quella pronunciata dal giudice vado alle conclusioni la disputa sull'autenticità di un'opera indica come strada alternativa a quella giudiziale quella del confronto tecnico tra le parti normalmente archivio il collezionista mediante il compimento di analisi scientifiche chimiche o fisiche risulta ancora più importante per la soluzione corretta di tale scelta che l'acquirente dell'opera raccolga quante più informazioni e documentazioni possibili su di essa dotandosi altresì di doni e certificati di autenticità in caso di accertamento giudiziale invece l'esperto chiamato alla valutazione potrebbe segnalare la giurisprudenza in tema secondo la quale la pronuncia di autenticità favorevole giustificherebbe l'inserimento dell'opera in una sezione speciale del catalogo riservata come suggeriva Enrico Crispolti alle sole opere dichiarate autentiche da una sentenza sarà poi lo stesso mercato a considerarla autentica e quindi rilevante ai fini economici anche se essa difficilmente riacquisterà dignità di produzione autentica dell'artista in mancanza della certificazione dell'esperto forse sarebbe auspicabile uno studio comune degli esperti riuniti per discutere la scrivibilità di quell'opera ad un autore determinato se è vero che normalmente l'archivio è istituito successivamente alla morte e pratica sempre più diffusa e da incentivare proprio ai fini della certezza del mercato l'organizzazione da parte degli artisti stessi è un censimento inventario delle proprie opere il ruolo degli archivi d'artista si rileva infatti di fondamentale importanza specie nel caso di sovrapposizione di giudizi diversi nati dal principio di libertà di opinione ed espressi da veri soggetti tutti ugualmente legittimati ad attribuire autenticità ad un'opera d'arte sottoposta al loro esame garanzia di attendibilità e di condivisione di buone pratiche si possono esprimere valutazioni nate nel rispetto di principi di trasparenza e collegialità e costituiti da motivazioni annotate e dettagliatamente conservate nell'archivio anche l'attività pubblicato presuppone una necessaria condotta di correttezza e buona fede specie con riguardo alle opere di un autore successivamente scoperte ed autenticate del pari importante alla corretta archiviazione conseguente dell'intera documentazione riferite sia ai giudizi di non autenticità nonché della conseguente decisione di sospensione del giudizio con riguardo alle opere di dubbia attribuibilità dovrei essere riuscita nei tempi non so se sei riuscita nei tempi ma se sei riuscita a tenerci incollati sulla tua relazione come si dice perché magari è poco pratica poco tecnica come cosa ma è molto reale la sensazione che ho avuto era di grandissimo interesse anche per la tua relazione specialmente per la rassegna giurisprudenziale che diciamo ci consente anche di avere appunto dei punti di partenza per casi analoghi simili o comunque degli spunti di riflessione ulteriore per la questione insomma che tu hai affrontato sulla responsabilità delle fondazioni la necessità dell'autenticità a chi spetta ma soprattutto è tornato sempre se io diciamo ho bene inteso la figura dell'esperto benissimo ma è un parere poi quello dell'esperto o è un qualcosa di acclarato da accettare ed è sicuramente mutabile come tutti voi qui avete in qualche maniera oggi fatto intendere capire e anche come ci diceva la dottoressa Coloretti tra l'altro serve forse qualcosa in più della semplice parere di un esperto in determinate circostanze quindi io ripeto mi unisco a tutti i ringraziamenti che ha fatto splendidamente Caterina prima vi segnalo il prossimo incontro il 27 dal titolo forse tu lo sai meglio di me perché io adesso sono le particolari contrattualistiche nel settore esatto bravissima l'evento si terrà in aula avvocati e con collegamento da remoto lo dico a vantaggio di chi volesse venire direttamente qui in aula avvocati sarà possibile previa prenotazione come sempre assistere in presenza e nulla ringrazio i miei predatori ringrazio chi è ancora collegato so che la consigliera Canale si era allontanata grazie 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 e buon pomeriggio e buon lavoro a tutti quanti ci vediamo martedì grazie arrivederci a tutti